Buongiorno a tutti, benvenuti a questa prima conferenza stampa di mercoledì primo dicembre. Oggi partiamo con un progetto che si intitola Chuck Piemonte che spettacolo. Al tavolo abbiamo Paolo Manera, direttore di Film Commission Torino-Piemonte, Matteo Negrin di Piemonte dal vivo, Stefania Serra, responsabile di arte e cultura per Fondazione CRT. Ricordiamo che siamo sempre in collegamento sulla nostra piattaforma Zoom e per cui chi ci segue da casa può fare domande così come invitiamo a fare domande chi è presente in sala. Allora, oggi presentiamo un progetto che possiamo dire un po' il prodotto di una fertile collaborazione tra alcune delle realtà più importanti della nostra regione. Infatti Chuck Piemonte che spettacolo è stato ideato e realizzato da Fondazione CRT, Film Commission Torino-Piemonte e Fondazione Piemonte dal vivo. L'obiettivo qual è? Quello di promuovere le eccellenze del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e anche i talenti della performing arts attraverso proprio il cinema. Ecco, nello specifico lo fa attraverso una lunga, diciamo, una serie di clip di cortometraggi che raccontano i più importanti luoghi simbolo di arte e della cultura del Piemonte. È un progetto che è nato ancora in piena pandemia e per la precisione nel febbraio del 2021 per aiutare la ripartenza proprio del settore dello spettacolo e dell'audiovisivo. Questo appunto dopo il lunghissimo periodo dell'emergenza sanitaria. Quindi noi come Torino Film Festival siamo molto felici di poter partecipare in qualche modo quindi a questa iniziativa proponendo le clip e cortometraggi nell'ambito del nostro festival, sui nostri schermi, se non vado errata, tra oggi e domani al Cinema Lux. A questo punto però chiederei ai nostri ospiti, a cui do di nuovo il benvenuto, di scendere maggiormente nel dettaglio e partirei proprio dando la parola al direttore della Film Commission Torino-Piemonte che è Paolo Manera. Prego. Grazie. Questo è un progetto che si è sviluppato in un lungo periodo e via via ne abbiamo raccontato i vari passaggi, le varie etappe. Il progetto è partito su un ragionamento che nasceva innanzitutto da Film Commission Torino-Piemonte e Piemonte dal vivo come due realtà che sono anche presenti nella legge cultura, nella nuova legge cultura della regione Piemonte come deputate a lavorare sull'audiovisivo e sulle arti performative rispettivamente con una grande attenzione ai nuovi talenti, alle nuove idee e alla diffusione su tutto il territorio, al rapporto tra i talenti e i luoghi. Il ragionamento è stato quello di trovare un dispositivo che mettesse in collaborazione molto più forte di quanto è avvenuto fino a qua chi fa cinema audiovisivo in questa regione, chi fa arti performative e i luoghi. In un momento in cui il cinema e l'audiovisivo stavano interrogandosi su come nel corso della pandemia lavorare in una modalità nuova e più intensa, i luoghi e le arti performative si trovano in un momento di grande difficoltà, con luoghi chiusi e spettacoli temporaneamente sospesi. Questa è stata una molla per pensare come trasformare una difficoltà in un'occasione di un rilancio, qualcosa che forse poteva essere fatto anche prima con questa intensità, ma l'importante è raccogliere questo momento in una dimensione propositiva. Idea molto semplice ma anche molto avventurosa. Cercare dieci factory, dieci gruppi di filmmaker, dando un'attenzione principale a quelli più giovani, a quelli più innovativi, con un percorso e delle idee, con magari dei pregressi in un rapporto con l'arte performativa, con il teatro, la danza, il circo contemporaneo, la musica. E propogli in modo piuttosto azzardato di candidarsi a un percorso che poi, una prima call che è stata in primavera, una selezione delle dieci gruppi, compagnie di filmmaker e poi l'incontro con queste dieci location che sono state individuate su tutto il territorio piemontese. Non c'è solo Torino, ma sono tutte le province con dei luoghi che non sono necessariamente i luoghi già celebrati e conosciuti. E poi l'incontro con delle compagnie teatrali. E questo è avvenuto attraverso un lavoro di una commissione e ci tengo a ringraziare Stefania Imini, Cristina Pellarino e Gianluca Guzzo, che da un punto di vista turistico, da un punto di vista culturale, accademico, ma anche da un punto di vista innovativo, come Gianluca Guzzo di My Movies. E quindi sono andati a cercare di individuare queste compagnie, sono andati a fare questo primo tassello. Poi c'è stato un grande lavoro di incrocio e matchmaking, su cui lascio la parola a Matteo per andare nel dettaglio. E poi, in tutto questo, però, appunto, la condivisione progettuale immediatamente con Fondazione CRT è stata quella di incrociare i punti di vista del cinema, del teatro e di una visione complessiva di innovazione che tenesse insieme il territorio, il cinema, il teatro, la cultura, i luoghi come luoghi della creatività, ma anche luoghi che possono diventare luoghi di turismo culturale qualificato. Un'idea molto semplice. Proviamo a pensare come fare delle cose che possono contemporaneamente dei cortometraggi d'autore, ma sono anche degli spot artistici d'autore di alto livello, ma non affidati a soliti noti, a nomi già celebrati, ma alla creatività giovanile. E in questo percorso il Torino Film Festival ci sembrava un approdo ideale per questa fase 1, un primo momento di presentazione prima che questi si diffondano in tutto il mondo, attraverso tutti i canali digitali, attraverso incontri, reti, attraverso i luoghi stessi. È una sperimentazione che è più semplice da far vedere e siamo felici che in questi giorni finalmente ci sarà la possibilità di vederli e capire questo che è stato una scommessa, come può concretizzarsi, in qualcosa di anche molto divertente. Ci tengo a dirlo, chi ha già visto alcuni articoli, sono già usciti delle anteprime, perché è anche un percorso virale a puntate, quello che abbiamo immaginato e messo in atto. Benissimo, sentiamo allora Matteo Negrini per i Monti del Vivo. Buongiorno a tutti e tutti, anch'io celebro assieme a voi oggi il battesimo di questi prodotti evidenziando anche alcuni tratti di innovazione del percorso che abbiamo fatto. È innegabile che questo percorso e questo progetto sia figlio di un'accelerazione dovuta all'emergenza sanitaria, in cui il mondo dell'audiovisivo e quello dello spettacolo del vivo hanno vissuto circostanze profondamente diverse. Non è un mistero che il consumo privato di audiovisivo abbia generato un'accelerazione nelle produzioni dell'audiovisivo in tutto il mondo e nel nostro territorio, in particolare grazie all'operato importante della Film Commission Torino a Piemonte. Per quello che riguarda lo spettacolo del vivo invece c'è stato un momento di impasse profondo e delle difficoltà radicali. In un momento in cui lo spettacolo del vivo è stato vietato, il comparto si è rivolto a soluzioni palliative che a noi non sembravano delle soluzioni ottimali. Tutti noi ricordiamo lo streaming dello spettacolo dal vivo fatto con telecamera fissa era un qualcosa che non faceva bene né allo spettacolo dal vivo né tantomeno all'audiovisivo e quindi ci siamo assunti la responsabilità di immaginare un dispositivo diverso che non fosse in forma di palliativo o di ristoro, ma di rilancio vero e proprio e siccome le rivoluzioni non accadono per passi progressivi ma attraverso dei momenti in cui il sistema fa uno scatto abbiamo cercato, offrendo le garanzie di istituzioni forti e auspicabilmente consapevoli, di operare questo scatto, cioè di coinvolgere gli artisti e le artiste dello spettacolo dal vivo in un percorso che non li vedeva al centro dell'azione ma complici di un'azione orientata a qualcos'altro, cioè sottoporsi a quello che è un occhio registico esterno, quindi derogando un pezzetto di quello che è considerato il potere autoriale dell'artista e orientarsi non alla promozione del proprio prodotto ma di un qualcosa di diverso, cioè un rilancio di un territorio regionale che quindi lavorasse in un'ottica di rilancio non solo di se stesso ma di un territorio intero. Questo è veramente un cambio di spospettiva rispetto a un comparto che non è soltanto quello dello spettacolo del vivo ma quello culturale che è figlio dell'estetica del genio per cui io ho un'idea sorprendente e aspetto che il mondo si orienti a me a guardarmi generando un effetto wow. Qua invece abbiamo adottato un punto di vista diverso se mi concedete un approccio rinascimentale dove le istituzioni hanno guidato un intero comparto alla promozione, alla valorizzazione del proprio territorio esattamente come funzionavano le commissioni nel rinascimento in cui la legacy, quella che adesso si chiama legacy che fino a due anni fa si chiamava eredità, sono patrimonio culturale immateriale che rimane nel futuro come eredità e valorizzazione di un territorio che ha delle potenzialità ancora in espresse che in questo momento vive di un periodo felice di visibilità visto anche la biodiversità che può esprimere il Piemonte ma le cui potenzialità in espresse è compito delle nostre istituzioni promuovere. Come per passare la mano alla collega Stefania Serra della Fondazione CRT abbiamo pensato che nell'eterogeneità delle nostre due istituzioni, l'una si occupa di audiovisivo, l'altra si occupa di spettacolo del vivo, avessimo bisogno di un'istituzione che avesse nella sua mission in realtà tutto il settore culturale e quindi ci siamo rivolti alla Fondazione CRT chiedendo alla Fondazione se avesse voglia non di sostenere economicamente ma di collaborare in partnership a un progetto di questa natura. La risposta è stata, mi permetto di dire, non solo favorevole ma convintamente favorevole e quindi abbiamo deciso di fare questo percorso insieme i cui primo frutto è quello che andiamo a vedere tra oggi e domani nelle sale del Cinema Lux. Perfetto, direi che è stata molto esustiva questa spiegazione, passerei la parola a Stefania Serra di Fondazione CRT. Grazie, molto è già stato detto dai colleghi sulla filosofia di questo progetto, però come Fondazione CRT vogliamo veramente cogliere l'occasione che oggi ci viene data dal Torino Film Festival per esprimere un duplice ringraziamento. Il primo grazie come fondazione lo rivolgiamo proprio alle due persone che hanno per primi pensato a questo progetto, qui presenti Matteo Negrin e Paolo Manera, che veramente nel periodo più complesso della pandemia, quando tutti ci stavamo un po' interrogando su quali azioni porre in essere per aiutare il comparto culturale a ripartire in un momento di grande difficoltà, hanno scelto di condividere questa loro idea con Fondazione CRT. E come diceva Matteo, la fondazione l'ha colta da subito con grande entusiasmo, perché andava nella stessa direzione a quale da anni opera fondazione, cioè offrire opportunità ai talenti, ai giovani talenti del nostro territorio. E contestualmente ci dava anche l'opportunità di trovare una modalità nuova per sostenere questo comparto. Certamente non possiamo dire che il progetto non fosse ambizioso. Ambizioso e per certi versi sperimentale anche con un certo margine di rischio, perché il periodo in cui noi ragionavamo su come attuare questo progetto era certamente molto complesso e con grandi incertezze. Però oggi ci troviamo qui a presentare in anteprima questi dieci cortometraggi, cortometraggi d'autore, che hanno visto veramente il lavoro in team di squadre, di professionisti veramente d'eccellenza. E qui, secondo grazie, noi come fondazione sentiamo il dovere di rivolgerlo proprio ai protagonisti di questi cortometraggi. Quindi i talenti della musica, della danza, i videomaker, i registi, che hanno saputo trasformare dei luoghi simbolo del Piemonte in veri set cinematografici. I risultati li potrete apprezzare tutti in queste due giornate di anteprima, vedendo veramente come hanno saputo fondere spazi artisti in un'unica soluzione. Noi di questo veramente siamo molto orgogliosi, però sappiamo anche che il nostro compito non è ancora finito. Questa è solo la prima tappa. Adesso ci aspetta un percorso di valorizzazione del lavoro che è stato fatto, di promozione in tutti i contesti possibili, nazionali e internazionali, per far conoscere quelle che sono veramente le eccellenze, i talenti e le potenzialità del nostro territorio. Quindi non possiamo ancora dire di aver raggiunto pienamente l'obiettivo. Da oggi ci aspetta un altro percorso. Grazie. Voglio domandare un po' sulle strategie anche future. Su questo lascio a Matteo, perché Piemonte del Vivo ha fatto da capofila di questa fase di quella che è poi la diffusione, che è molto ambiziosa, su una serie di tasselli. E poi vorrei però dire ancora due cose sul making che valgono appena. Eccoci, molto brevemente, la diffusione di questi output è figlia del prisma di ambizioni con cui nasce. Per cui sicuramente, essendo prodotti d'autore, avranno la loro diffusione in quello che è la diffusione classica del prodotto artistico. Ma già qua in due circostanze li vedo che possono essere diffusi sia nei festival e nelle piattaforme di audiovisivo che hanno un interesse per lo spettacolo del vivo e per il performativo e sia nei festival e nelle programmazioni di spettacolo del vivo che hanno un interesse per l'audiovisivo e l'innovazione. Accanto a questa diffusione squisitamente artistica abbiamo un piano di diffusione relativa a quello che è la promozione del territorio, il marketing territoriale, che vedrà le forme più brevi, ovvero i clip, non solo diffuse nelle sedi, nelle ATL, ma anche in quelle che sono il circuito delle 100 stazioni, gli aeroporti, le stazioni metropolitane, insomma un piano di diffusione in tutti gli spazi che possono generare attrattività e turismo culturale. Colgo l'occasione, perché se non è adesso non è mai più, in una situazione di conferenza stampa per ringraziare l'ufficio stampa comunicazione, promozione e sviluppo di questo progetto che è un ufficio che è ibrido formato dalle risorse interne delle tre fondazioni e che sono Alessandra Valsecchi per Piemonte dal vivo, Lauro Palio per la fondazione CRT Donatella Tosetti per la Film Commission Torino-Piemonte, che così come noi chiediamo molto spesso ai nostri interlocutori o beneficiari di fare rete fra di loro, l'abbiamo fatto noi in prima persona, ci sembrava di dover dare in questa occasione il buon esempio. E proseguendo velocemente, volevo tornare sulla diffusione, sì, stiamo come tutte le volte in un festival cinematografico, ci si presenta e si va a caccia di interlocutori ulteriori e quindi questa è solo l'anteprima a cui seguiranno altre anteprime sul territorio piemontese ovviamente, ma anche in una prospettiva internazionale e sulle piattaforme, ci sono tutta una serie di primi incontri e contatti, però come sempre avviene in questo caso il festival e il suo correlativo industry è un momento di proposta. Ma volevo tornare un attimo indietro al making perché vale la pena di andare nello specifico. Una delle diffusioni sarà garantita dal fatto che c'è una scena di filmmaker e case di produzione piemontesi, indipendenti, che sono in costante crescita, che sono in costante sviluppo. Questa rappresenta un momento di fare ulteriormente tesoro dei loro talenti e delle loro reti e non li cito tutti ma vi prego di citarli voi via via quelle che sono le case di produzione coinvolte, Moby Film, Starpt, Robin, Una Film, 720, Epica, Baby Doc sono alcune realtà che in alcuni casi da tempo spesso seguite attraverso il loro percorso nel mondo del documentario, del cortometraggio, delle opere prime e seconde, questa volta si cimentano ad incrociare un gruppo di performer, molti di rileveranza anche internazionale, non solo nazionale e quindi in qualche modo un gioco di forze che propagerà tantissimo la diffusione. Tutto questo è stato reso possibile non soltanto che partivamo appunto dalla nostra officina viemontese di talenti, che merita sempre più visibilità, ma un'officina di arti performative che si è conosciuta in un making molto nuovo, è stato un laboratorio vero e proprio di formazione, vorrei che fosse chiaro, non è stato un semplice incrociare dei nomi e affidarsi, ma è stato un laboratorio condiviso che è stato reso possibile dalla struttura che abbiamo sviluppato nel tempo e quindi vorrei citare il ruolo decisivo della rete regionale che è Davide Bracco di Ficomission che è qua presente e giustamente mi fa piacere ricordare quanto la presenza di una rete di 60 comuni in tutto il Piemonte che abbiamo citato ieri è stata una grande facilitatore di realizzare quelle che sono state, soprattutto nel periodo del Covid, interazioni difficili, complesse. Immaginate fare entrare in una location che diventa un set cinematografico, sia una troupe cinematografica che una troupe di performer. Questo lo dico per dire che ci saranno tutta una serie di materiali di backstage, in parte già diffusi, che sono un ulteriore modo di propagare anche il processo, creando degli altri oggetti. E su questo si diceva dei team diffusi, è stata segnalata la parte comunicazione, che è stato un team ibrido, ma c'è stato un team ibrido anche da un punto di vista delle istituzioni nel making. La rete regionale di David Bracco, l'abbiamo detto, ma poi è stato decisivo anche il rapporto dell'ufficio produzione di Phil Commission con Enrico Delotto e poi i due showrunner, posso dire, che da un lato e dall'altro hanno seguito questo progetto e quindi dal lato cinematografico Emanuele Baldino e dal lato invece di Piemonte dal vivo Ilar Ghidini, che sono stati i gemelli diversi che in questi mesi hanno lavorato veramente in un modo unico, innovativo, appassionato per trasformare questi set, prima, dopo e durante, in un luogo di grande creatività e innovazione. Quindi grazie veramente a tutti quelli che hanno fatto questo sforzo nuovo, unico, appassionato e non vedo l'ora che vediamo insieme, oggi e domani, in due sezioni diverse, questi 5 più 5 progetti che hanno ognuno una loro dignità cinematografica, artistica, culturale, turistica molto forte. Tutti insieme producono un effetto, credo, veramente sorprendente. Grazie, c'è una domanda? Sì, c'è una domanda. Prego. Buongiorno, Ghironi Cinedams. Volevo chiedere, alla luce di quanto avete detto e in parte avete già lanciato un po' quella che sarà la domanda che vi porrò adesso, l'emergenza covid per il settore teatrale soprattutto non è ancora finita perché i dati non sono proprio confortanti per il rientro in sala quindi questo progetto e la cassa di risonanza del Torino Film Festival è importantissimo. Avete pensato con le realtà che avete coinvolto uno sviluppo futuro oltre questo progetto quindi supportare per altre produzioni nel futuro o cercare una modalità ibrida per permettere loro di continuare a performare o di immaginarsi un futuro del teatro diverso rispetto non solo a quello in sala ma per non perdere pubblico o per avvicinarne altro. Non so, grazie. Diciamo, il progetto Ciac Piemonte che spettacolo si inserisce una traiettoria della Fondazione Piemonte del Vivo che già questo prevedeva in precedenza abbiamo immediatamente durante la prima ondata dell'emergenza sanitaria istituito una traiettoria che si chiama OnLive i cui materiali sono disponibili ovviamente a partire dal sito di Piemonte del Vivo e su altre piattaforme che si è declinato non soltanto nell'ambito dell'audiovisivo ma che in questo momento è in fase di sviluppo per quello che riguarda le nuove tecnologie posso fare un'anticipazione nel mese di febbraio sarà il mese che dedicheremo alla declinazione dello spettacolo del vivo in forma anche di realtà aumentata e di realtà virtuale proprio frutto di un percorso che vede in Ciac per noi una traiettoria ma di un percorso che ovviamente si pone quella domanda che è stata appena posta e cerca di dare un ventaglio di risposte il più ampio possibile Bene, grazie un'ultimissima domanda perché il tempo stringe Daniele Cavallo No, serve il microfono per lo streaming Ah, chiedo scusa No, dopo questa presentazione a Torino Film Festival ci sono già delle date precise in cui questi lavori verranno proposti oppure dei luoghi che non so tipo l'aeroporto di Caselle da Natale si potranno vedere questi lavori a ciclo continuo Grazie Questo tipo di diffusione è stata immaginata per il rilancio del turismo culturale in Piemonte dalla primavera estate prossima quindi diciamo che all'inizio della primavera inizierà in maniera coordinata la promozione di questi contenuti per quel tipo di lancio stiamo legittimamente immaginando una diffusione che si avalle di questa quarta ondata perché è evidente che in questo momento preciso immaginare una mobilità anche rispetto a quelli che sono interlocutori naturali del turismo in Piemonte cioè il Nord Europa, UK, Russia eccetera eccetera immaginare in questo momento una pianificazione di mobilità internazionale nei mesi futuri è un momento un po' fragile per farlo quindi aspettiamo di scavallare i momenti dell'inverno per partire con questa campagna Però via via lo abbiamo risettato questo progetto per cui non escludiamo di fare anticipazioni vorrei che vi fosse chiaro che questo progetto l'abbiamo gestito con una grande determinazione molto disciplina e nello stesso tempo molta libertà la situazione da quando l'abbiamo pensata ogni settimana a un certo punto mutava e quindi abbiamo risettato via via quella che era la timeline per essere sull'attualità e per garantire il rispetto non solo delle condizioni di salute di tutti ma anche il rispetto dei luoghi e delle persone in questo vorrei citare, vi prego di fare riferimento a tutti i comuni coinvolti nel senso che oltre alle due sedi di Torino il Castello di Govone Benevagenna Benevagenna che per molti è stata la grande sorpresa per la quantità di luoghi preziosi e di una bellezza e potenzialità enorme Villa Caccia Romagnano Sesia Asti allora tutti questi luoghi avranno una programmazione molto precisa e un tour ma nello stesso tempo le forme brevi saranno diffuse già da adesso e quindi non escludiamo che ci sia in ognuno di questi luoghi uno o più eventi che probabilmente nasceranno anche sull'onda di quelle che saranno i prossimi cambiamenti torno sul tema del futuro del teatro e il tema del futuro del teatro del cinema dei luoghi che si sta ridefinendo giorno dopo giorno quello che credo che sia molto importante è che ne stiamo parlando insieme tra istituzioni tra artisti tra imprenditori tra gestori dei luoghi questo è credo un cambio di passo molto forte c'è un dialogo tra delle realtà che sì c'era già prima ma questo è stato un acceleratore che ha cambiato che ha cambiato molto il rapporto tra questi luoghi in primis ci sono poi le persone si è lavorato e vissuto progettato insieme e quindi fate riferimento appunto in ogni luogo c'è un comune un'istituzione delle persone che si sono messe a disposizione in gioco grazie noi dobbiamo però chiudere perché il tempo stringe e le conferenze avanzano purtroppo cioè purtroppo è meno male nel senso che mi dispiace perché sarei stata a questo tavolo a chiacchierare volentieri anche con voi allora noi ci vediamo in sala noi ci vediamo al cinema tra oggi e domani al cinema lux quindi grazie a Paolo Manera Matteo Negrini Stefania Serre grazie e buon lavoro buongiorno ricominciamo con le conferenze stampa siamo al quinto giorno abbiamo passato la metà di questo 39esimo festival di Torino grazie a tutti quelli che sono presenti in sala in questo momento passiamo dopo l'incontro con Chuck Piemonte che spettacolo passiamo al concorso presentiamo un film in concorso che è una produzione americana anche se ha poi delle radici profondamente spagnole il titolo del film è El Planeta è di Amalia Ullman ma noi abbiamo con noi una delle due protagoniste del film che è Ale Ullman a cui do il benvenuto che è la mamma della regista e della protagonista Amalia non solo nella realtà ma anche appunto nella finzione visto che appunto Ale Ullman nel film interpreta la mamma la storia è di quella di una ragazza che lascia Londra dopo la morte del padre per raggiungere la mamma in una zona della Spagna nord-ovest che è Gijon di cui parleremo perché è una zona molto interessante e le donne che affrontano una crisi dovranno darsi manforte anche economicamente per trovare poi una soluzione io sono molto contento di avere qua Ale Ullman perché nel film è assolutamente straordinaria e comincerei a chiederle appunto del film perché io so che sua figlia viene dal mondo dell'arte e questo è il suo primo film vorrei sapere se se lei ha mai recitato se ha un background artistico e come si è trovata a recitare con sua figlia ovviamente anche in questo caso come ne abbiamo parlato ieri c'è una sorta di sovrapposizione tra finzione e realtà e quindi volevo chiederle come è andata la produzione e girare il planeta ciao a tutti bene è il primo largometraje di Amalia ella già aveva fatto corti però la decisione di prendermi a me come actrice fu perché ella estaba haciendo un casting e non dava con la persona adecuata e ademais per tema di presuposti anche perché non aveva l'aiuto delle instituzioni gubernamentali e hizo la film con sus ahorros quindi mi mi di fare una prova e mi 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 no podía sumarme al proyecto y por supuesto le dije que sí hicimos las pruebas y resultó que yo en cámara daba bien luego la relación nuestra trabajando en la película fue muy profesional ahí no éramos madre e hija era la directora y la actriz y la verdad que fue todo muy bien si Amalia precedentemente aveva fatto dei corti aveva girato dei corti questo è il suo primo lungometraggio come ha fatto a selezionarmi perché mi ha selezionata durante il casting era la ricerca della persona adeguata proprio per la madre nel film e non riusciva a trovarla e in più vi era anche questo pesante problema che era la mancanza di un budget adeguato perché il film non ha ottenuto nessun sostegno da parte delle associazioni del finanziamento pubblico diciamo governativo e quindi dell'amministrazione pubblica e quindi a un certo punto poiché non riusciva a trovare la persona giusta e c'era questo problema di budget ha chiesto a me se per caso avessi voglia di collaborare mi ha io ho detto certo sì perché no e mi ha sottoposto a un provino diciamo per vedere come sarebbe andata ed è andata bene perché pare che la macchina da presa mi ami e quindi mi ha detto allora entra a far parte del progetto e abbiamo cominciato quindi a girare a lavorare assieme e il rapporto è stata una bellissima esperienza devo dire a livello professionale proprio perché sul set lei era la regista io ero una attrice non ero ero la madre finta diciamo nel film e non ero sua madre quindi un rapporto effettivamente veramente professionale che è stato che ha funzionato benissimo allora visto che comunque è anche un po' come dire è rischioso il fatto di collaborare tra madre e figlia nel senso che è una cosa molto personale però si presta anche a diristi chiedo velocissimamente Ale se sua figlia Amelia è cattivissima sul set oppure è tipo è cattiva o è buona è trattato bene Amalia è la classe di directora che ama a gli actori ci sono gli actori che problema no ella lo vuole lo aiuta lo cuida e lo sabe guiar e dirigir che è lo che io ho parlato con lei al principio di io poter recostarmi in ella e che ella mi diciera come vuole vedere al personaggio in cada momento a Maria Rendueles come vuole verla in cada situazione e la verità che è molto buona directora anche a ella le gusta che haia un buon ambiente di rodaggio e avevamo un buon ambiente di rodaggio che eravamo un equipo molto pequeño le chiamavamo la Petite Crew e erano 5 persone e la verità che fu un placer a farlo con complicità e con ganas di partecipare nel progetto sabendo che era un progetto piccolo che non si sapeva fino a dove crezzi e si sapeva con molta alegria e ilusione senza sapere fino a dove arriva Amalia ha creato un'atmosfera perfetta sul set lei è uno di quei registi che amano i propri attori le proprie attrici e quindi non è uno di quei filmmaker che dicono ah mio dio gli attori le attrici lei li ama le ama insomma aiuta guida ed è proprio in grado è molto abile nel guidare la persona a capire esattamente quale deve essere la performance che Amalia stessa si aspetta e con me per esempio mi ha seguita passo a passo nella costruzione del personaggio di questa donna Maria la madre di Leo nel film e dicendomi esattamente passo a passo cosa avrei dovuto fare che cosa si aspettava come sarebbe dovuto essere quindi è stata un'esperienza assolutamente coinvolgente l'atmosfera piacevole ci si divertiva e c'era voglia proprio di lavorare insieme anche se il progetto era piccolino la troupe era formata da ben cinque persone la chiamavamo la petite crew la piccola troupe e quindi e non sapevamo come e se sarebbe cresciuto questo progetto e quindi è stata veramente bravissima e gentilissima Amalia tiene molto sentito dell'umore e Amalia ha anche un gran senso dell'umorismo quindi divertente questo anticipa diciamo la domanda che volevo fare nel senso che il film come abbiamo anticipato parla di crisi ha dei momenti anche duri l'inizio è una abbastanza un pugno nello stomaco nel senso che si intuisce come Amalia e sua madre poi vanno avanti e riescono per tentativi ad andare avanti economicamente nella vita ma quello che è in dubbio è il senso dell'umorismo di Amalia il film quindi riesce a trovare una sorta di equilibrio difficile tra queste due condizioni quindi un senso dell'umorismo e un occhio molto personale e artistico di Amalia che ovviamente deriva dalle sue precedenti esperienze artistiche all'interno di una storia che è politica economicamente politica che direi e velata da un senso di tristezza penso che entrambe si siano dovute confrontare nella lavorazione di El Planeta con questi temi lo che stava chiaro era che Amalia non voleva un drama perché non voleva fare un drama intenso e voleva tener una película equilibrata anche sapere che si può estar passando molto male però mantener tener sentido del humor come per desdramatizzare diferentes situazioni e e hubo momentos en algunas escenas che realmente si fero molto duras Amalia en Los Ángeles aveva hecho un curso con un discípulo de Liz Trashberg ella estuvo haciendo el curso e a mi lo que hicieron fue permitirme estar yo de espectadora e hubo momentos como las dos escenas más difíciles que ella ahí si me exigió como que yo bajara un poco a Los Infiernos para cargar de más dramatismo esas escenas y fue así y luego bueno te tienes que recuperar yo como no era muy profesional lo hice y me recuperé pero ella me dice que es habitual en el método de Liz Trashberg estar tan mal y luego ya pasar a otra cosa y estar bien y yo lo hice bueno lo mejor que pude creo que salió adelante la cosa chiarísima fin dall'inizio era l'intenzione di Amalia di non fare un film che fosse drammatico non un dramma intenso voleva semplicemente un qualcosa che avesse equilibrio tra quello che era l'aspetto drammatico delle varie situazioni e la sua capacità di trattare sempre queste situazioni con umorismo in modo da sdrammatizzare diciamo così quelle che erano momenti estremamente complessi mostrati nel film e devo dire che ci sono stati momenti complessi anche durante le riprese ci sono stati dei momenti molto difficili anche ed era molto difficile per me anche diciamo entrare in questa parte che può agire e recitare in modo da dare una performance che potesse sdrammatizzare non fosse per me che recitato quindi c'è stato un corso di recitazione diciamo così alla Lili Strasberg a cui aveva partecipato anche Amalia e io mi abbiano permesso di fare da spettatrice in modo da capire esattamente come sarebbe potuto essere io ho capito e diciamo che sono riuscita anche grazie a Amalia e al suo aiuto a superare difficoltà pesanti nella resa di determinate scene molto difficili allora il film come dicevamo ha produzione americana quindi arriva in concorso al 39esimo festival di Torino come prodotto americano però è girato in Spagna in una zona ben precisa che è Gijon si parla di crisi economica diciamo Gijon è in Asturia è una parte poco frequentata dal cinema spagnolo io vorrei chiedere a dare una definizione o comunque se ci può parlare di quella zona della Spagna e perché è così rilevante all'interno del e il planeta Il problema è che c'è una popolazione che ha invecezionato e non c'è un relevo generazionale, non nasce niente, le famiglie non hanno niente, hanno mascotte, però non vogliono avere figli e si va invecezionato. Questo fa che non sia una città molto dinamica, che sia in un processo lentamente. La crisi del 2008 ha afectato molto, poi la pandemia anche, quindi non arriva a recuperarsi. E ha passato anche per crisi dell'industria del carbone, metallurgia... Il problema di Gijon è che è una cittadina che non è molto dinamica e ha una popolazione che per il momento sta diminuendo perché non vi è ricambio generazionale. Le coppie magari prendono l'alimane domestico ma non vogliono fare bambini e quindi, uscendo già da una crisi precedente, entrando poi nella crisi generale del 2008 e poi nella pandemia, la situazione è diventata molto pesante. Allora, il film è girato in bianco e nero, ha anche delle transizioni a tendine, piuttosto curiosi. Magari poi chiedo a Ale se sa il motivo del perché. Io mi sono fatto un'idea ma penso sia totalmente campata per aria, per cui non neanche ve la dico. Però, appunto, è un film molto curioso e, ripeto, forse l'elemento che colpisce maggiormente è il rapporto tra le due protagoniste e scoprire poi che effettivamente sono madre e figlie. Io chiedo a Ale se a questo punto, dopo questo esordio, continuerà la sua carriera di attrice, visto che peraltro ci ha anche detto che la camera sembra amarla. Quindi, a questo punto, io, fossi lei, mi butterei. Sì, mi gustaría. E nella prossima pellicola di Amalia, tengo un papel pequeño, però, che sarà una produzione americana. Hai qualcosa per me? Mi piacerebbe molto continuare a recitare e nel prossimo film di Amalia, che sarà una produzione americana, c'è una piccola parte anche per me. Perfetto, a questo punto io chiedo se ci sono domande dalla sala. Perfetto, io ringrazio, ringrazio Ale, ringrazio Amalia che in questo momento è in collegamento, anzi è un video che la mamma sta facendo. Grazie Amalia per il film, perché è assolutamente... Grazie, oh, oh, vedi, grazie. Il pubblico, bravi, salutate. Come se fosse un concerto, ragazzi. Ringrazio moltissimo Ale per essere stata con noi, Ale Ulman, attrice e protagonista insieme a sua figlia Amalia, che è anche regista e sceneggiatrice del film Il Planeta, in concorso al 39esimo Festival di Torino. Grazie mille. Allora, ricominciamo con le conferenze stampa. Sì, c'è questa... Dobbiamo tenere le mascherine anche al tavolo per questioni di sicurezza. Continuiamo con il concorso. Dopo Il Planeta, che come abbiamo detto è produzione americana, anche se girato in Spagna, abbiamo il film italiano in concorso di quest'anno, selezionato appunto al 39esimo Festival di Torino. Il titolo è il mutuo di Gallura. Abbiamo il piacere di avere con noi al tavolo regista e sceneggiatori, insieme a Carlo Orlando Matteo Fresi, buongiorno, l'attore Andrea Arcangeli, che quest'oggi incredibilmente parlerà, e il produttore Domenico Procaccio, ovviamente, per il film. Accompagnare il film Sara Conforti di Rai Cinema, la produttrice Laura Paolucci, Antonello Grimaldi per il film, e so che ci sta raggiungendo, e dovrebbe arrivare, Nevina Satta, che è direttore generale della Fondazione Sardegna Film Commission, di cui abbiamo diapositiva. Allora, il film è tratto da un libro di Enrico Costa, un libro monimo pubblicato nel 1884. Io chiedo a Matteo, che ha scritto insieme a Carlo Orlando il film, come sono arrivati alla storia del mutuo di Gallura, perché è una storia molto interessante e strana, dai contorni cinematografici interessanti e molto moderni anche di genere. Quindi, come avete scoperto la storia del mutuo di Gallura, e come siete arrivati poi all'idea di trasformarlo in un film? Vicino al microfono, per favore, grazie. Va bene? Yes. Sono gallurese di origine, mio papà è nato in un paese che si chiama Luogo Santo, al centro della Gallura, quindi ho frequentato quelle zone fin da bambino. E lì questa storia è una leggenda, misto tra leggenda e storia vera, molto conosciuta. Quindi sono entrato in contatto in questa maniera qua, più di racconto diretto che dal libro. È una storia che mi è rimasta appiccicata addosso per molto tempo, finché ho deciso di rileggere il romanzo, e quando l'ho riletto ho trovato un impianto narrativo molto moderno, direi anche contemporaneo se vogliamo, e mi sono accorto che rimaneggiando un po' la struttura della narrazione che si poteva portare al cinema in maniera efficace, secondo me, ovviamente. Quindi il film, approfitto, io non ho letto il libro e ovviamente non sapevo della storia, quindi è i confini tra appunto l'episodio di storia della terra da cui viene dalla Sardegna, ma anche qualcosa di incredibile, perché poi è una storia, non dico fiabesca perché di fiabesco ha veramente poco o nulla, però il personaggio del muto, questa diatribia tra famiglie storica, c'è del sangue, c'è lavoro, c'è anche un po' di magia, nel senso che poi ovviamente il muto viene visto come se fosse una sorta di segno negativo, quasi diabolico, quindi è veramente al limite della leggenda. Sì, diciamo che storia e leggenda si fondono un po' in questa storia, i fatti storici realmente accaduti sono quelli di questa grossa faida che coinvolse famiglie dei Vasa e dei Mamiya e che procurò in una decina d'anni circa 70 morti. Bastiano Tansu è un personaggio storico realmente esistito che ha fatto parte di questa vicenda, poi ovviamente tutto ciò, passando il tempo, si è tramandato anche oralmente e ha preso i contorni un po' della leggenda. Però Enrico Costa quando ha scritto il libro ha cercato di fare un lavoro molto aderente ai fatti realmente accaduti, il che rende quel romanzo anche un po' una sorta di prototipo di romanzo storico. Sì, questo è chiaro anche nel film, appunto c'è la ricostruzione molto fedele e soprattutto l'inizio, come dire, sembra essere veramente preso da degli atti quasi giudiziari, tipo scritto, scrittissimo, però è molto bello. Io faccio una domanda a Bastiano, cioè a Matteo Fresi, che nel film si trova a fare una parte, devo dire, molto complessa, nel senso che, esatto, molto complessa, perché è questo killer imbattibile, potentissimo, di quelli che nei film moderni, tipo solo sentire un John Wick, tipo della zona, però con una faccia d'angelo e guardato come se fosse un po' uno scherzo della natura da quelli del villaggio che attraversa. Ma lui appunto passa attraverso con i suoi occhi, con la faccia innocente del protagonista. Quindi io penso che sia stato, senza poi parlare, quindi penso che sia stato un personaggio, dai contorni moderni, anche se inserito in una storia appunto ambientata nell'Ottocento italiano della Sardegna, però piuttosto difficile da gestire per una persona che poi si trova impossibilitata a parlare durante le riprese del film. Quindi volevo chiederti come hai lavorato sul mutuo. Buongiorno a tutti. Allora, in realtà a me fin dall'inizio mi piaceva l'idea che non fosse la storia di un killer, di un assassino, ma piuttosto la storia di un emarginato. Di un emarginato però nella Sardegna dell'Ottocento, insomma, un ragazzo che nasce con una condizione che oggi viene considerata in un modo, e all'epoca, la domanda principale che mi sono fatto è come vive, come cresce un ragazzo sordo, in realtà perché il mutismo, diciamo che è una conseguenza della sordità, quindi che non sente e di conseguenza non riesce a parlare, in un mondo mentalmente chiuso, come era all'epoca, e anche molto brutale, come era all'epoca. Per cui, secondo me la cosa più interessante del personaggio era proprio questo racconto di di emarginazione, c'è una persona che nasce e cresce in qualche modo da sola, un po' un reietto della società, e che di conseguenza poi si ritrova ad essere un assassino, forse come unico sfogo nella propria vita, come unica ragione di vita in qualche modo, cioè è la storia di uno che vive in un eterno dolore, cioè che vive anche l'uccisione degli altri come un dolore. Per cui a me questa cosa mi affascinava fin dall'inizio, e poi era, comunque per un attore essere privato di uno dei, insomma, della lingua, è una sfida, perché in qualche modo devi compensare con altro. Io non volevo cadere nel tranello di essere privato di un mezzo, e quindi di dover accentuare tutti gli altri, rischiavendo di fare un po' una macchietta, insomma una cosa forzata. per cui ho cercato insieme a Matteo di non avere paura, di andare un po' in sottrazione, di far parlare il personaggio più con gli occhi, e insomma era bello comunque scoprire Bastiano anche girando, cioè non sono andato, ho cercato di fare un po' uno studio su cosa può significare oggi essere sordo, non riuscire a parlare, e mi sono fatto aiutare dai ragazzi dell'Istituto per Sordi a Roma, abbiamo fatto delle chiacchiere, abbiamo provato anche a immaginare che tipo di linguaggio, quale potesse essere l'antenato del linguaggio dei segni di oggi, perché all'epoca sicuramente fino a 800 in Sardegna non parlavano il linguaggio dei segni, per cui abbiamo cercato di trovare questa via di mezzo, andando un po' a scarnificare il linguaggio dei segni di oggi per immaginare un linguaggio dei segni dell'epoca, per cui era un po' una scoperta il personaggio ed era il motivo per cui poi ho amato farlo. Perfetto, grazie Andrea Arcangeli che penso di aver chiamato Fresi, come mi hanno fatto notare, chiedo scusa, chiedo scusa, Andrea Arcangeli ovviamente, a questo proposito c'è una scena che mi è rimasta impressa nel film, quando tu vieni raggiunto da una bambina e i genitori o comunque parenti sono preoccupati perché tu sei appunto portatore di malaugurio, insomma c'è una persona che è qualcosa che non va bene e tu hai, ovviamente insomma solo ed unicamente con la tua aspettività capisci di, oddio, quasi compatimento nei confronti di quelli che considerano il muto di Gallura come appunto un personaggio negativo mentre tu sei ovviamente capace di intendere tutto quello che accade attorno. È un film che appunto arriva in concorso al 39esimo Festival di Torino che mette insieme una serie di elementi secondo me molto interessanti e questo vorrei chiederlo a Domenico perché come abbiamo detto è un film in costume un film che parla di una regione come la Sardegna piena di storie piena ovviamente di fascino è un film con un protagonista particolare dai contorni quasi western da un certo punto di vista quindi è un film che attraversa un sacco di generi io volevo dire che cosa ti ha affascinato di questo progetto principalmente e come siete arrivati poi a collaborare con Matteo probabilmente proprio la parte western Matteo l'ho conosciuto perché per un periodo ho insegnato alla Holden lui collaborava con me quando ho ottenuto quelle lezioni e quando mi ha parlato di questo progetto mi è sembrata una storia molto bella molto forte molto vera anche molto legata a una terra che a me piace tanto però c'era questa connotazione appunto western che mi affascinava particolarmente perché poi magari passi tutta la vita a produrre per lo più film d'autore anche difficili però poi in realtà se ti capita la possibilità di fare un western ci cadi con tutte per cui per cui sì c'era anche c'era assolutamente questa particolarità che mi affascinava molto e soprattutto il copione era molto bello c'era bella l'idea di partenza però spessissimo delle idee poi in fase di scrittura diventano meno interessanti invece in questo caso no il copione era molto forte il copione sicuramente forte certo prego chiedevo del cosceneggiatore ah cosceneggiatore certo ricordiamo Carlo Orlando che è cosceneggiatore insieme a Matteo Fresi Matteo io chiedo a te invece proprio su questo aspetto cioè l'aspetto di genere il western e come confluisce perché appunto poi parliamo di faide familiari quindi c'è l'elemento shakespeariano Romeo Giulietto tutto quello che possiamo immaginarci però poi nella terra di Sardegna si presta anche esteticamente a rendere quell'aspetto lì cioè il western il genere sì devo dire che io credo che il western in questo film sia un po' uno degli ingredienti nel senso che c'è un sapore che viene ricordato soprattutto con le musiche con gli interventi più eterogenei ma la struttura per esempio del racconto non è western nel senso che è qualcosa che si avvicina di più a qualcosa di molto mediterraneo semmai forse l'antenato più giusto sarebbe quello della tragedia greca però mi rendevo conto che invece il tipo di di estetica invece poteva avere anche quell'ingrediente e lo avrebbe migliorato in qualche maniera forse ci avrebbe aiutato anche a leggerlo meglio come un film contemporaneo e non comunque qualcosa di etnografico o museale perché spesso si finisce in questo errore per il quale per rispettare la tradizione la si conserva esattamente com'era invece per far sì che una storia magari antica arrivi ai giorni nostri ancora viva probabilmente bisogna reinventarla un po' e l'ingrediente western fa parte un po' di questo discorso certo essendo un genere popolare capace di rinnovarsi sempre parlavi del rischio etnografico però è vero che da un certo punto di vista il film tratto dal romanzo che abbiamo detto prima di Costa i fatti sono ben descritti e riportati con dovizie di particolari dal punto di vista estetico però il film è anche in quel caso molto preciso e puntuale quindi immagino che tu abbia avuto delle fonti iconografiche su cui hai lavorato per quel tipo di ricostruzione il linguaggio che viene utilizzato quasi da formule appunto l'ingresso iniziale la richiesta di matrimonio iniziale è proprio una formula scritta di quelle che si utilizzavano al tempo c'è un lavoro anche su quello molto approfondito dal punto di vista della drammaturgia sì in particolare come hai detto tu il linguaggio e in particolare quella formula sono riprese proprio pari pari rispetto a come si usavano però diciamo che fa parte più della drammaturgia che non della messa in scena questo lavoro tant'è che per esempio sui costumi abbiamo cercato di anche allontanarci leggermente da quello che era la tradizione per cercare di renderlo più più contemporaneo più vivibile adesso faccio un esempio su tutti i banditi all'epoca portavano una specie di gonnellina con dei calzoni bianchi che spuntavano da sotto che oggi a mio giudizio sarebbero risultati un po' fuori tempo e anche magari rischiava il ridicolo e quindi abbiamo fatto un lavoro sui costumi sulla musica per esempio che ha dei pesanti interventi di elettronica per allontanarci da questa teca museale nel quale il film rischiava di finire allora io chiedo se ci sono domande dalla stampa presente in sana c'è una domanda buonasera buongiorno anzi ironi cine dams volevo chiedere al tavolo in realtà forse più legato all'aspetto produttivo del film perché questo è il film che di fatto rappresenta l'Italia al Trino Film Festival in concorso ed è di fatto un film di genere come si è presentato e anche Regina l'anno scorso era diciamo si rispecchiava un po' nel film di genere sta un po' cambiando questa identità dell'Italia nel cinema oppure è un filone che è sempre esistito e che adesso si sta risollevando anche per nuove voci che arrivano che arrivano se non dalla periferia da luoghi che meritano di essere valorizzati grazie che il cinema italiano stia stia cambiando questa per fortuna sì ora a parte quello che dicevo prima sul western non lo vedo un film di genere sinceramente mi sembra un prodotto autoriale pieno e tondo come spesso succede nei festival poi che sia l'unico film italiano certo non potevamo saperlo quando l'abbiamo fatto il racconto va verso il genere e spesso va verso il genere non lo vedo né come un problema né come qualcosa senza ritorno trovo interessante quando un'autorialità interessante e di livello si coniuga con il genere anche Gomorra se vogliamo possiamo definire un film di genere in un certo senso o perlomeno è diventato genere completamente dopo il film ma c'era un'autorialità molto forte e ho fatto un esempio ma ne potrei fare altri anche qui tocchiamo il genere sfioriamo il genere però di fondo c'è un autore che per la prima volta fa sentire la sua voce questo credo sia interessante per un festival come Torino è molto interessante per noi venire a vedere qui se questo lavoro in questo senso funziona che effetto produce chiedo a Matteo e Andrea se vogliono aggiungere altro su questo siete a posto ok è vero però che il film proprio per il fatto di essere girato in Sardegna che è un film sicuramente con una film commission che lavora egregiamente e con una lingua che spesso distante ovviamente dall'italiano è quasi risulta quasi essere più internazionale soprattutto considerando che appunto poi il protagonista causa sua sordità non parla e quindi è un film dal respiro più ampio paradossalmente pur raccontando una storia profondamente italiana io continuo a chiedere a Andrea Arcangeli sulla lavorazione prima ha parlato appunto del lavoro che ha fatto anche per portare su grande schermo questo personaggio sordo incapace di parlare penso che quella sia stata la sfida la sfida più grande però è vero che appunto è un lavoro che immagino sia stato fatto anche è un po' una scoperta continua anche il rapporto con gli altri attori sul set ti chiedo se ci sono stati altre difficoltà altri momenti di difficoltà sul set del mutuo di Gallura oltre a quella appunto dell'imparare un nuovo linguaggio da un lato diciamo che avevo delle difficoltà da una parte dall'altra c'era quella che non ho dovuto imparare il gallurese per fare la parte ed ero l'unico degli attori che sono dico una frase due parole a un certo punto insomma attenta forse quella è stata una scena in cui abbiamo un po' un po' ragionato cioè a un certo punto che il personaggio prova a dire una cosa e anche lì si apre si apre un mondo perché comunque era volevo attingere a delle comunque ad una sorta di delle fonti reali per cui per quello è stato per me fondamentale anche se il personaggio fondamentalmente non parla mai capire oggi come le persone sorde imparano a comunicare per cui poi è un lavoro estremamente delicato che rischia di cadere nel finto un po' nel che a tratti se fatto male rischia di sembrare quasi una presa in giro per cui ne abbiamo parlato abbiamo provato a ragionare su diverse modalità e per cui fondamentalmente ecco era era strano dialogare con gli altri attori in scena senza mai parlare senza e quindi lasciare che che raccontasse del personaggio il corpo lo sguardo un e no però come dicevamo prima era una scoperta ogni giorno e per fortuna insomma il resto del cast era era impeccabile in questo cioè nonostante la mancanza della parola sentivi che comunque era bello instaurare un dialogo non so non voglio dire di energie perché sembra un po' un fricchettone però però c'era una roba vibrante in scena si può fare nonostante insomma un anche se viene a mancare un pilastro insomma allora ti faccio un'altra domanda brevissima l'effetto Charlie Kaufman cioè una volta che tipo finiamo di girare poi dopodiché tipo uscito dal set dicevi no 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 ragazzi io non parlo oppure ci avevo pensato anche oggi di venire qui e dire che ero ancora muto così non potevo non posso rispondere nessuna domanda chiedo a Matteo invece la più grande difficoltà di questo film se c'è una sequenza che hai avuto difficoltà a portare a cap perché il film ha anche una come dire una sua spettocalorità quindi immagino che alcune sequenze dato anche il territorio in cui è stato girato insomma si siano prestate si siano trovate diverse difficoltà quindi chiedo qual è stato il momento più difficile della produzione del muto di Gallura il più difficile sicuramente i primi giorni di lavorazione perché Andrea ha avuto l'ottima idea di sedersi vicino a un ragazzo che era contagiato dal covid ottimo e quindi è arrivato sul set con una settimana credo di ritardo quindi quella prima settimana in cui noi abbiamo cominciato a girare e non c'era il protagonista devo dire che un po' di sudori freddi li ho avuti però devo anche dire che non avendo paragoni con altri il primo lungometraggio che faccio non avendo paragoni con altre lavorazioni non so dirti se c'è stata una criticità vera e propria nella lavorazione io l'ho trovata ho trovato un lavoro comunque organico e fluido professionisti che ho avuto accanto sono stati tutti splendidi quindi non ho nulla proprio di cui lamentarmi perfetto allora chiedo se ci sono domande dalla sala prego ah arrivo scusa prego Domenico sì se posso aggiungere una cosa certo questa è un'opera prima ed è una cosa che negli anni cerchiamo di farne di continuare a farne spesso le società quando crescono le società di produzione quando crescono a un certo punto hanno modo di fare dei film diversi più grandi con autori più avanti nella carriera quindi perdono un po' la voglia di farla io insisto questa è una cosa che purtroppo ho detto già diverse volte insisto che sull'importanza che società strutturate con una storia continuino a fare le opere prime perché ecco in questo film per esempio la grande difficoltà è appunto governare una macchina così difficile per la prima volta ci sono moltissimi problemi che deve affrontare un regista della sua opera prima qui lui ha avuto come altre volte ci è successo di fare intorno un numero di professionisti che in qualche modo questo lavoro lo rendono più possibile allora a parte Laura Palucci e Ivan Fiorini dalla parte di produzione di Fandango però avere un organizzatore con l'esperienza di Gigi Lagrasta per un esordiente è un valore avere Gerardo Rossi alla fotografia Vannucci Alessandro Vannucci alle scene hai avuto una montatrice molto giovane ma c'era Giorgio Franchini che in qualche modo aveva sempre un occhio e tutto questo è molto importante in più lui ha avuto sul set Antonello Grimaldi Antonello Grimaldi che più o meno tutti conoscono è un regista ha fatto la sua vita la sua carriera e i suoi film parlano parlano per lui però ecco Antonello ha già coperto questo ruolo altre volte su altri film è capace di star vicino a un regista esordiente senza poi dico delle cose se non sono così dillo tu senza prevaricare senza invadere più di tanto ma dando a lui da un lato ma anche a noi a me a Laura a Ivan dall'altro una sicurezza che conta per cui ecco esordire che è sempre difficile in qualunque situazione se è fatto in un contesto più in qualche modo protettivo senza essere esserlo troppo secondo me è un bene per questo dico che anche altre produzioni che magari non ne hanno più voglia invece dovrebbero continuare a lavorare sugli esordi questo è chiaro quindi ovviamente ringraziamo anche per il lavoro ormai lungo e notevolissimo di Fandango domanda dalla sala quindi buongiorno a tutti Michelangelo Morello Cinedams avrei un'altra domanda per Andrea Arcangeli e volevo chiederti il tuo approccio a livello d'attore appunto per questo film mi spiego vieni da delle interpretazioni molto molto positive tra le altre cose come in Romulus come in Divin Codino di cui ti faccio ancora i complimenti e ho notato che utilizzi molto molto il tuo fisico scegli anche ruoli magari che ti permettono di utilizzare questo quindi più che una maschera metti in gioco proprio te stesso volevo sapere la tua opinione da questo punto di vista e che appunto che tipo di approccio usi per immaggerti se vogliamo nei personaggi che scegli grazie guarda non so dirti di avere veramente un approccio specifico diciamo che è capitato un po' per caso un po' per scelta di fare ruoli molto diversi per ora forse proprio perché mi piace immaginare che un attore possa non avere limiti o che possa anche in qualche modo trovare il modo di superarli ovviamente nei limiti dei limiti questa cosa del fisico sicuramente mi ha mi piace pensare che in scena un attore possa essere veramente un possa essere non so come dire come diceva Wagner sull'opera d'arte totale cioè che veramente può utilizzare tutto il suo arsenale e ed è bello farlo al cinema perché devi saperti anche dosare devi lavorare con il corpo ma entro un frame per cui non lo so io lo trovo un lavoro di scoperta costante non ti so non sono uno di quelli che arriva sul set con un suo metodo penso che ogni personaggio richieda un certo tipo di lavoro e quando ho fatto Romulus per me era fondamentale partire dal fisico anche perché appunto la lingua non era una lingua italiana era una lingua ricostruita anche lì per cui inevitabilmente devi trovare il vettore attraverso il quale tu poi arrivi a raccontare delle cose ogni personaggio ha il suo quando ho fatto il divincodino lì era una sfida a parte che richiedeva un lavoro diverso era tutto un lavoro di ricostruzione di aspetti di una persona per poi all'interno del quale mettere un po' me stesso dare un'anima a quella confezione ma comunque in generale io penso che al di là dei metodi della maniera di lavorare dei vari attori io personalmente da spettatore quello che apprezzo sempre delle cioè le interpretazioni che mi rimangono di più sono le interpretazioni oneste cioè quelle che possono essere un'interpretazione può essere articolata quanto vuoi ma se poi alla fine non c'è una vera onestà e io questo lo dico da spettatore non da attore perché io non ho percezione reale poi di quello che vado a fare da spettatore è è proprio lampante vedere un attore che mette in scena qualcosa di veramente onesto e onesto non significa che fa se stesso tutte le volte ma che c'è in qualche modo velata della verità per onestà io penso a un mix tra la verità e l'umiltà quando c'è dell'umiltà dietro un lavoro questa cosa si sente ed arriva immediatamente allo spettatore e la stessa cosa secondo me c'è anche nelle sceneggiature nei film quando c'è veramente la volontà di raccontare qualcosa questa cosa arriva quando il prodotto si finisce ad essere una confezione di immagini senza un'anima io da spettatore non mi aggancio per cui di conseguenza da attore la cosa che posso fare è studiare il più possibile per dare un senso al personaggio ma poi cercare in tutti i modi di di non essere di non avere filtri con me stesso perché poi alla fine l'unica cosa vera che posso dare io è qualcosa di me stesso che sarà nascosto dai vestiti del personaggio però non ho altro di vero da dare però comunque sì è sempre ogni volta per me una scoperta Vomenico volevo aggiungere lo studio importante però in certi casi c'è alla base un talento forte e il provino che tu hai fatto era pazzesco lui ha fatto un provino senza nessuna senza nessuno studio perché lì non aveva ancora studiato nulla che è stato in qualche modo definitivo cioè ci ha convinto completamente era un provino veramente bellissimo e sto parlando di di Arcangeli prima di di Vincodino prima di Romulus quando eri molto meno conosciuto c'erano meno elementi per giudicare il tuo lavoro quindi sì lo studio è importante ma il talento anche tanto non male allora noi andiamo a chiudere io ringrazio Antonello Grimaldi che è stato citato prima per accompagnare questo film insieme a Sara Conforti di Rai Cinema Laura Paolucci ovviamente Domenico Procacci salutiamo ancora Nevina Satta che è direttore generale della Fondazione Sardegna Film Commission abbiamo parlato del film italiano prego scusami Matteo prego no volevo giusto prima di concludere aggiungere solo un ringraziamento a tutti i professionisti anche sardi che hanno lavorato a questo film perché spesso ho sentito dire c'è questa sensazione che la Sardegna non sia pronta ad accogliere lavorazioni di un certo livello e invece abbiamo trovato davvero degli ottimi professionisti lì che si sono spesi veramente al 100% e li ringrazio questo è chiaro quindi Matteo Fresi Andrea Arcangeli Domenico Procacci il film è il muto di Gallura film italiano in concorso alla 39esima edizione del Torino Film Festival grazie a tra pochissimo con la prossima conferenza stampa Allora siamo arrivati alla prossima conferenza stampa Human Factors secondo lungometraggio di finzione di Ronny Trocker non mi azzardo a pronunciare il titolo in tedesco perché l'ho studiato il tedesco però siccome avevo dei pessimi voti direi che possiamo tralasciare allora il film è presentato nel nostro fuori concorso Human Factors arriva dopo il tuo primo Gli Eremiti che aveva raccolto molti consensi di critica devo dire unanime alla Festival di Venezia a cui tu avevi partecipato nel 2016 e riprende un po' il discorso delle relazioni familiari diciamo come tema anche se il contesto è molto più complesso più articolato infatti da questo maso delle Alpi Alto Tesine passiamo ad una famiglia nord-europea alto-borghese in cui però sono proiettate diciamo le stesse ombre sinistre le stesse tensioni in qualche modo appunto la crisi familiare esplode quando c'è un incidente esterno e succede che viene sottolineata proprio viene sottolineato il problema di comunicazione e di comprensione di quale sia la verità dei fatti quindi la cosa particolare di questo film è che quando esplode la famiglia diciamo a seguito di questo evento esplode viene frammentata la visione perché noi seguiamo la ricostruzione dei fatti dalle prospettive dalle diverse prospettive e lo spettatore è diciamo gettato in questo caos in cui sono gettati gli stessi protagonisti e poi ci racconterai forse anche gli stessi attori perché immagino sarà stato anche difficile raccontare e spiegare e costruire anche con loro questo progetto però io partirei proprio dal cuore del film che poi altro non è che appunto un racconto del diciamo che mette a fuoco il problema della comunicazione e anche dei mass media della impossibilità forse soprattutto oggi di ricostruire veramente che cos'è la verità prego Ron buongiorno sì credo che i due film forse comunicano giustamente su questo che parla di un problema di comunicazione nel seno di una nel centro di una famiglia e in questo secondo lavoro è un po' nato dalla da questa dall'osservazione anche personale mia di come come la percezione nei nostri giorni avviene la percezione del mondo attorno di noi come come costruiamo la nostra verità le nostre realità che che ci circondano e lì naturalmente anche se non è un film sui mass media o sui social hanno 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 un'importanza perché sono molto presenti nella nostra vita quotidiana se vogliamo o no e dunque tutto nasce da questa osservazione che ho l'impressione che più più massiva questa comunicazione è più 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 superficiale tutta questa comunicazione diventa almeno per me a volte io sono non ce la faccio più a a a ordinare tutte le impressioni che 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 riceviamo ogni giorno dunque l'idea un po' lì questo questo malessere di della della nostra epoca no che che a volte uno pensa di non capire più niente tante tante cose tante cose ci arrivano tra i media tra i foto tra notizie tra i social infatti tu sottolinei molto questo aspetto della società iper mediatizzata non è un caso che i protagonisti marito e moglie facciano i pubblicitari per cui lavorino proprio nel campo della comunicazione rimangono quasi intrappolati potremmo dire io l'ho vista anche un po' come una sorta di horror nel senso che tutto sommato l'atmosfera è quella nel senso che inizia ecco questo è un altro aspetto del tuo film molto interessante c'è questo inizio in cui tu tieni molto la tensione inizio sembra di entrare in una piena atmosfera da film da film horror e in realtà un pochino si sviluppa in questo modo non soltanto per la questione dell'incidente esterno ma proprio perché i personaggi si immergono in questo gorgo da cui non escono sostanzialmente più per cui ecco questo io l'ho trovato anche molto interessante rispetto alla costruzione che tu hai fatto sì certo il film gioca un po' con le aspettative del genere dunque mi piaceva questa idea di giocare un po' con questi elementi senza che poi sia un thriller o sia un film d'errore perché non lo è ma credo che anche qui entra l'aspetto della manipolazione che noi siamo così pensiamo che siamo molto preparati alla consumazione dei media dei film dei racconti però abbiamo delle aspettative molto precise una volta questa aspettativa non è compiuta siamo un po' persi credo che siamo facilmente manipolabili e questo aspetto mi interessava anche soprattutto all'inizio del film dove non si sa bene chi guarda se la camera chi guarda se è un personaggio chi guarda di giocare anche o di costringere l'ospettatore di chiedersi di farsi domande anche sul suo modo di vedere sul modo di guardare di metterlo un po' all'insicuro certo ricordiamo che potete fare delle domande anzi vi sproniamo prego c'è una domanda qui in prima fila buongiorno buongiorno valentina bellardi per scusi per cine dance le volevo chiedere nel suo film mi è parso una mia impressione che si alternino momenti di penombra che è molto insistita molte scene scure e altre in cui invece quando c'è la luce risulta essere sempre molto fredda che siano il neon dello studio o quello che traspare dalle finestre e anche come lei riprende poi gli attori che sono sempre un po' inclinati di profilo sembra giocare su questo contrasto tra luce e ombre è una cosa è una mia percezione era voluta a dei significati poi all'interno del film e un'altra cosa invece sempre se è una mia impressione mi sembra che il film giochi molto anche sull'aspetto di straniamento un po' per l'effetto rewind delle varie prospettive e in parte anche per l'understatement per la capacità degli attori anche in situazioni drammatiche reagire in maniera molto quasi monoespressiva appunto come questo poi si rispecchi nelle sue intenzioni se trovare scontro di queste mie riflessioni rispetto alla prima domanda con le penombre mi piace il contrasto credo che come il silenzio fa parte della musica anche la penombra deve fare parte dell'immagine non mi piace che tutto sia così visibile e poi sulla luce abbiamo più che altro lavorato sui contrasti dei due posti c'è questo mondo professionale dei protagonisti che è il mondo della della pubblicità dunque c'è una luce abbastanza aggressiva quasi chiara bianca e c'è questa luce del luogo dove vanno in vacanza che è in Belgio infatti io vivo a Bruxelles da dieci anni dunque conosco bene questa zona e l'idea è nata proprio lì da questa luce della costa del mare lì che la costa come hai visto è è abbastanza brutta diciamo perché è tutto costruito non c'è nessun posto però la luce la rende un po' quasi poetica o quasi melancolica mi sembra dunque abbiamo lavorato molto su questi due aspetti il contrasto di luce nei due dei due posti principali del del film e poi che non si vedono sempre gli attori o a volte non 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 esprimono non esprimono i loro sentimenti e sì è una non so non so come descriverlo forse è la è la voglia anche di lasciare un dubbio no o lasciare un certo misterio perché personalmente è lì che comincia interessante essere interessante un racconto quando tu come spettatore devi proprio riempire anche dei 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 certi buchi o certe cose che non vedi o anche percepire certe sensazioni di un attore che che non sono visibili dunque quando quando lavoro quando lavoro con loro chiedo anche di 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 attuare lo meno possibile no dunque di essere proprio proprio sì forse questo l'effetto di estragnamento che tu che tu hai chiamato così è volontario grazie sempre sulla comunicazione quanto ha contato nell'affrontare questo argomento il fatto di provenire da una terra di confine comunque in cui c'è il bilinguismo in cui poi tu hai studiato a Buenos Aires insomma ti sei mosso e hai anche diciamo avvicinato dei modelli di comunicazione diversi insomma un po' come ci insegna l'antropologia e la lingua che crea il mondo per cui ecco ha contato se ha contato sì credo che sì quando cresci in una regione bilingue ci sono ci sono sempre delle delle tematiche credo che che sono più facili da affrontare in una lingua o in un'altra lingua poi ho studiato Buenos Aires e quando cioè il linguaggio del cinema l'ho l'ho imparato in spagnolo dunque quando sono ritornato qui avevo un casino perché nessuno mi ha capito mi succede ancora oggi forse ogni tanto metto una parola in spagnolo però niente questa cosa anche il fatto che il film in due lingue mi interessava perché perché è sempre è sempre una fonte di di malinteso anche no? è la lingua certo e con l'attrice per esempio lei è perfettamente bilingue francese tedesco parla anche cinque altre lingue però ed era molto interessante lavorare sul fatto di in che momento io ho scritto la scienziatura già i dialoghi già in due lingue però abbiamo rilavorato tutto con lei perché dipende dal momento nel quale sei il sentimento che vuoi esprimere dipende la lingua cioè scegli la lingua in funzione a quello e dunque abbiamo lavorato molto su questo e mi interessava praticamente la possibilità di certe cose sono più facili da dire in una lingua e in un'altra si allora che lingua hanno parlato nel senso soprattutto poi tu come hai io mi immagino il set come deve essere stato nel senso di un film così complesso anche da raccontare quindi l'altra domanda è come hai raccontato come hai spiegato il progetto la sceneggiatura ai tuoi attori e ti hanno capito subito avete dovuto comunque lavorare molto prima a fare un lavoro come si dice in teatro a tavolino la lettura al tavolo ecco la lettura insieme l'abbiamo fatta abbiamo fatto delle prove una settimana e e credo che hanno capito subito cosa stava cercando perché ho capito che loro sentivano anche forse da esperienze personali si sentivano molto vicino ai personaggi e dunque il problema della lingua diventa secondario hanno subito capito cosa stavo cercando hanno aggiunto le loro esperienze e dunque non era più complesso che un altro lavoro ritornando una domanda che hai fatto all'inizio su come era sul set per tutti per i loop come li chiamiamo per queste anomalie temporali quello sì a volte era complesso perché praticamente tutti si sono un po' persi in un certo momento in che momento del film siamo adesso perché si ripetono sempre le scene e mi guardano tutti e mi chiedono ma cosa stiamo facendo perché stiamo facendo la stessa cosa però alla fine hanno capito però si sono fidati perché il film è molto bello e funziona rispetto a quello che appunto funziona così come abbiamo scritto la struttura veramente così non è una struttura che abbiamo incontrato nella sala di montaggio era pensata così e l'abbiamo finito così se funziona è poi a decidere i spettatori sì tra l'altro un aspetto sempre che riguarda gli attori che mi interessava scusi mi interessava chiederti è proprio la recitazione nel senso che tu hai chiesto una recitazione molto contenuta nel senso almeno loro hanno tutti ovviamente quindi immagino che fosse una tua richiesta una recitazione molto contenuta ecco perché hai deciso di farli lavorare molto in sottrazione perché questo è un po' il tono del film non so se è un gusto personale credo che io quando vedo un film non voglio che l'attore mi spiega come si sente voglio voglio che voglio capirlo della situazione voglio avere un po' di un margine di interpretazione anche dai suoi sentimenti dunque ho chiesto la stessa cosa ai miei attori e credo che chi si sono divertiti anche di lavorare così di non lavorare l'attore principale fa anche molto teatro dunque viene da una fa anche televisione però fa l'ho conosciuto per il suo lavoro teatrale dunque dove è molto espressivo naturalmente però credo che si è divertito anche di fare questa cosa un po' contenuta come dicevi certo un lavoro diciamo molto più difficile soprattutto quando si parla di cinema ci sono delle altre domande sì ce n'è una buongiorno Guironi Cinedams volevo sapere dal punto di vista del processo creativo proprio anzi proprio del girato visto che scrivi la sceneggiatura rimani fedele hai già un po' risposto in realtà da questo punto di vista però volevo chiederti se lasci un margine di interpretazione non solo agli attori ma anche a te stesso per cambiare delle cose al di là poi dell'intreccio e poi ti volevo chiedere anche a che modello ti ispiri se ce n'è qualcuno grazie in generale proprio tuo gusto filmico cinefilo personale per la prima domanda sì lascio generalmente quando andiamo sul set anche con con il con il DOP siamo molto preparati tutto è molto molto preparato a livello di di cosa dobbiamo fare e come vogliamo farlo la libertà la lascio più che altro agli attori perché praticamente gli chiedo di apportare un po' di esperienza personale al loro personaggio e un po' li scelgo anche in funzione a quello e dunque lavoriamo molto i dialoghi prima delle riprese cambiano molto perché ho bisogno di quello perché ho bisogno di dialoghi realistici naturalistici dunque sì lavoriamo molto su questo improvvisazione sul set faccio poco perché sono sono molto lento io il mio cervello è lento dunque ho bisogno di essere preparato admiro i registi che fanno molta molta improvvisazione perché credo che può creare delle cose bellissime ci ho provato una volta è stato un disastro dunque ho deciso di prepararmi e lavorare così e poi sui modelli che mi ispirano non so sono diversi registi che mi piacciono ultimamente molto il lavoro di Kelly Reichardt mi piace molto Nuri Bilgeseylan mi piace molto ci sono tantissimi che Lucrezia Martel era un po' la mia o anche Lissandro Alonso avendo studiato in Argentina mi hanno molto era l'epoca quando hanno fatto i loro primi film dunque era come una scoperta molto importante per me e continuo a seguirli ancora e ispirarmi dal loro lavoro grazie grazie Ronnie Trocker noi dobbiamo chiudere perché appunto avanzano le conferenze stampa però è stato molto interessante questo confronto ricordiamo che il film è Human Factors secondo lungometraggio di finzione di Ronnie Trocker presentato fuori concorso grazie 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 buongiorno benvenuti alla conferenza stampa di Les Andes Tranquilles nono lungometraggio di Joaquin Lafosse presentato fuori concorso nella sezione Surprise allora un film questo che attraverso il racconto della malattia di una malattia in realtà vuole raccontare una coppia anzi vuole raccontare la coppia cosa che avevi già affrontato nell'economie du couple perché l'impressione è quella che tu Joaquin voglia riflettere a livello universale su che cosa significhi rimanere insieme quando qualcosa si spezza o quando qualcosa ancora più naturalmente quando noi veniamo in contatto con il mondo dell'altro con un universo sconosciuto che è quello dell'altra persona rimaniamo disturbati da qualcosa quando in qualche modo veniamo a contatto con la parte oscura dell'altro ecco quindi secondo me questo è un film almeno io l'ho percepito in questa maniera anche sulla fatica quotidiana di costruire l'amore i rapporti quindi in questo senso secondo me è un film profondamente sull'amore ecco non so se sei d'accordo io partirei proprio da qui da quello che è il cuore del film per cominciare questa nostra riflessione sul film ovviamente senza nessuna critica o le tempo del cinema non sono semplici io trovo già formidabile che il festival tienne il cuore chi in la sala ha visto il film avete visto il film tutto in sala ok parfait non ma allora ravi di avere questa conversazione con il film questo film perché quando ero mia madre mi ha detto una frase che è ecco Joachim con il tuo padre ci siamo separati la malattia è troppo difficile ma io l'aim ancora e mi sono riuscita che a la fine dell'adolescente un adulto non sapeva cosa fare con questa frase con lo che mia madre mi ha detto si lei l'aimera ancora o se lei l'aimera ancora perché non si lei non ha continuato perché quando l'aimera on può continuare perché si lei mi ha detto che l'amor permette di tutto traversare quindi ciò mi sembrava complicarla non sapeva capire anche in una certa forma che mi metta in colere e in fatto e portanto io ero molto ben piaci io avevo stato il testo l'enfant delle difficoltà che avevo incontrato e in stesso tempo io ero anche stato il testo di la luce che ha menato per per non essere considerato solo come un malato e quando sono diventato io ero cinese molto veloce da l'école di cinese io mi sono sempre detto se posso fare questo lavoro se posso fare dei filmi un giorno io raconterei questa storia e quindi io mi sono detto che sarebbe interessante a 46 anni di raccontare con l'emotione la luce che mene un uomo e una femma per Non sono solo un malato, sono anche un padre, un amore, un artista. E è tutto questo che mi ha dato la vita. Ma è vero anche che penso che non avrei potuto fare questo film se non avessi fatto tutti gli altri film prima. Innanzitutto sono molto contenta che tu abbia recepito questo dal film perché questa impressione è perfettamente in linea con quello che è stato il motore che mi ha spinto a fare questo film. Le mie preoccupazioni e quello che mi stava a cuore. Sono appunto felice che abbiate tutti visto il film e quindi di avere questa conversazione insieme a voi. Il motivo, lo spunto che ha fatto sì che io scrivessi questo film è stata una frase che mi disse mia madre quando io ero molto giovane. Il giorno in cui mi ha annunciato che si sarebbe separata da mio padre mi ha detto Guarda Joachim, io e papà ci separiamo perché per me la sua malattia è troppo dura, troppo difficile da sostenere. Ma nonostante questo io lo amo ancora. E da ragazzo finché non sono diventato adulto ho fatto estremamente fatica a comprendere la sua posizione e il senso di questa frase. Perché ci viene insegnato che l'amore conquista tutto, che se ci si ama si superano tutti gli ostacoli. E quindi nel momento in cui lei mi aveva detto io lo amo ancora non capivo perché a quel punto non avessero continuato a vivere insieme. E questo ha creato in me una rabbia molto profonda perché non riuscivo a comprendere la sua decisione. Malgrado io sia stato testimone naturalmente di tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare lei nella convivenza con mio padre e al tempo stesso delle difficoltà da parte di mio padre nel cercare di farsi considerare come qualcosa di altro da un malato. E avevo sempre ripromesso a me stesso dopo che ho studiato appunto all'Accademia di Cinema mi sono detto se riuscirò un giorno a diventare cineasta e a fare dei film vorrò raccontare questa storia. E quindi adesso che ho 46 anni è giunto appunto il momento di parlare del rapporto fra due persone e di come due persone lottino in varie situazioni della propria vita per essere considerati altro rispetto a una sola cosa che ciascuno di noi tende a considerare nell'altro. Per cui lei giustamente dice io voglio essere considerato non soltanto come una madre o come un'infermiera ma anche come una restauratrice di mobili, come un amante e come un'amica. e allo stesso tempo lui dice io voglio essere considerato qualche cosa di diverso da un malato ma anche appunto un padre, un amante, un'artista. Ed è questo il senso profondo del film. Ma effettivamente... Io credo che fa 15 anni che ci conosciamo, 20 anni, a ogni volta che mi impressiona. Ci conosciamo da 20 anni, lavoriamo insieme da 20 anni. Mi sono chiesta effettivamente se ci fossero degli elementi autobiografici perché il personaggio del bambino è incredibile, è un personaggio che raccoglie tutte quelle sfumature che chi è passato da quelle situazioni di sofferenza riconosce. Parlo anche a livello personale per cui diciamo che in questo senso io ho riconosciuto e mi sono chiesta appunto se ci fossero delle componenti autobiografiche. Ecco, proprio per questo ho letto anche che tu volevi fare un documentario inizialmente se ho letto bene, e poi invece si è trasformato in un film di finzione. Ecco, come mai hai cambiato idea? Che cos'è che ti ha spinto invece a rivedere questa tua idea di partenza? C'è una buona question del choix di la fiction e non del documentario su questo tema. Io penso perché... Il y a delle cose che nel documentario, io credo che non arriverai mai... On può meglio dire e più dire. C'è tellement intimo. E' ovviamente il film è molto autobiografico. C'è il film per il cui ho ho più l'affetto. Simplemente perché c'è il primo film che ha stato nourrito per la mia enfanza. Quindi... Ma la... J'ai lavorato... Au début di ma... Juste in sorto di l'école di cinese... J'ai lavorato per un magazine belge che si chiamava Striptease. E che faccia del documentario. Che è molto famoso. E in facendo del documentario... E in tutto il tempo voglia di andare verso delle storie di famiglia. Io mi sono rendu conto che c'era troppo intrusivo... Di entrare con una camera in delle problematiche familiali. E che finalmente... La fiction è magnifica per tutto ciò che riguarda le problematiche familiali. Devo dire che è molto interessante questa domanda sulla scelta appunto del lungometraggio di finzione rispetto al documentario. Io credo di averla fatta perché mi sono ben presto reso conto che attraverso... Che con lo strumento del documentario... Non sarebbe stato possibile andare a scavare a fondo e a dire certe cose. Indubbiamente questo è il film più autobiografico tra quelli che ho realizzato finora. Ed è quello che mi sta maggiormente a cuore. È sicuramente il primo film che ho realizzato... Che si alimenta così tanto del mio vissuto, della mia infanzia. Ma mi sono reso conto subito dopo la scuola di cinema, quando ho cominciato a lavorare per un magazine belga che si chiamava Striptease, dove realizzavo soltanto documentari, dell'intrusività del mezzo documentario. Cioè di questa presenza della macchina da presa che cerca di scavare, ma in questo tipo di posizione non è idonea nel trattare problematiche familiari, intime e personali. Quindi la finzione è meglio. Chiedo, ne approfitto per chiedere se ci sono delle domande. Sì. Rita Di Santo, che tra l'altro è una nostra selezionatrice. Prego. Ha avuto il piacere di vedere il suo film a Cannes. E per me è veramente il più bel film del concorso. È un film emozionante, denso, intenso, con un equilibrio, una struttura narrativa così solida, così coerente e anche proprio con uno stile, un occhio, uno sguardo così attento. Questa camera che si avvicina ai protagonisti e poi si allontana. E questi equilibri che non si capisce mai se siamo nel caos o se quella è la realtà che vivono. E quindi vorrei proprio sapere come ha sviluppato questo... Ho visto il film di nuovo ieri sera, ho avuto la stessa impressione. Se ci può raccontare proprio del lavoro che ha fatto per scrivere i dialoghi, la struttura narrativa, la posizione della macchina da presa. Grazie. Allora d'abord je vous remercie d'avoir sélectionné il film. C'è d'autant plus important. Je pense que je suis très heureux de ce film et très fier. Le film ressemble vraiment à ce que je voulais qu'il soit. E c'è una cosa che è... C'è la sola cosa che mi rende triste con questo film, c'è di non essere distribuiti in Italia. Di non aver trovato di distribuiti italiani. Je m'explique assez difficile... Io penso che la pandemia e le difficoltà della professione che mi rende questa situazione. Ma per rispondere a vostra questione... Ce che è stato fantastico, è di poterare, con gli attori, Gabriele, Damien Bonnard, Leila Bechti, di poterciare l'entièrette del film durante 10 giorni, in la chronologia, avant di lo girare. C'è veramente un film che abbiamo già quasi girato una volta, senza filmare, ma che abbiamo tutti ripetato insieme. E poi abbiamo fatto questo durante 10 giorni, e poi tutto di nuovo, e poi all'inizio di girare. Quindi abbiamo continuamente, e fino allo a cercato a scrivere e a améliorare l'escrizione del film. E poi, Damien, Leila e Gabriele, sono i tre più beoi attori che ho mai mai riuscato in mia vita. Ce che è stato fatto con loro, c'était fou. Gabriele, c'è un naturel chez lui, che la camera tourne o qu'elle ne tourne pas, ça ne change rien per lui. Sa nature fa qu'il è di una spontaneità magnifica. e il ha detto... Moi, io ne dirige mai les enfants. Io domande, tutto come in l'economia del couple, io domande aux acteurs adulti di s'occuper di lui e di le diriger perché non penso che un bambino su un bambino può parlare a tre persone a la volta. Quindi, io resta molto distante, mi occupa di la misa in scena, di la direzione d'acteurs dei adulti. Ma c'è stato... Il faut di la chance, per fare un film giusto. Ora, l'économia del couple è un film che mi ha rendu heureux artisticamente parlant. E io avevo già... C'è là che ho avuto questa importanza di jouare tutto il film prima di le tournere. C'è già il caso per l'économia, questo è stato il caso per celui-ci. E' stato... un art collectivo, e che, al fondo, il film è ancora più emovante per me, che ciò che ho scritto, perché sento bene che Damien e Leila sono venuti pudicamente, senza che ne sape cosa, ma sono venuti e imparare qualcosa di altro che la mia piccola storia. E questo, come cinese, è quello che tutti vogliono vivere. A proposito di... Aspetta, scusa, traduco per io. Io perché ho un capello francese, scusate. Grazie di aver selezionato il film, innanzitutto, è un film che indubbiamente mi rende molto felice e molto fiero, che è venuto in modo molto simile a quello che io speravo, quindi sono molto soddisfatto del risultato. L'unica nota veramente triste per me è che il film non abbia ancora trovato un distributore in Italia. Faccio fatica a comprenderne le ragioni, al di là della situazione contingente della pandemia e delle difficoltà che la pandemia crea con la distribuzione cinematografica. Devo dire che per questo film il lavoro che io ho fatto con gli attori è stato assolutamente fantastico. A partire da Gabriele, il bambino che interpreta il personaggio di Amin, a Damien Bonnard e a Leila Bechti, sono stati davvero meravigliosi. Io con loro ho fatto una scelta che avevo già fatto nel mio film precedente, L'Economie du Couple, che in Italia era uscito con il titolo Dopo l'amore, ed è stata quella di provare interamente il film in ordine cronologico per dieci giorni prima di dare inizio al set vero e proprio. E subito dopo abbiamo cominciato le riprese. Durante questa lunga prova, che ovviamente non è stata filmata, però c'è stata la possibilità per ciascuno di noi di riscrivere costantemente, di migliorare i dialoghi, raffinandoli e tarandoli sulle esigenze degli attori stessi. E devo dire che questi tre attori, appunto Leila, Damien e Gabriele, sono stati i più belli della mia vita. Gabriele, il bambino, ha un dono assolutamente naturale, che la macchina da presa sia accesa o no, lui è di una spontaneità assolutamente straordinaria. E ancora una volta avevo imparato sul mio film precedente che quando lavori con dei bambini, la mia posizione non è sicuramente quella di dirigerla. Un bambino può seguire su un set al massimo tre persone. E quindi quello che io chiedo è, lo chiedo agli attori, agli attori adulti, di essere loro a dirigere il bambino, nel senso di guidarlo in una direzione o in un'altra, per fare in modo che aderisca al personaggio. Io mi mantengo a distanza e mi occupo naturalmente di altri aspetti e della messa in scena e di tutto quello che concerne la regia. E qui davvero ho avuto la grande fortuna di riuscire a fare un film, grazie al contributo straordinario di Leila e Damiane Gabriele, di una giustezza incredibile. Appunto questa prassi del provare prima di iniziare le riprese è estremamente utile e è molto in linea col motivo che mi ha spinto a scegliere di diventare cineasta, ossia il fatto che la pratica cinematografica, il fare film, è un'arte assolutamente collettiva. E mi ha profondamente commosso la capacità che hanno avuto, in particolare Damiane e Leila, di affrontare questi ruoli con estremo pudore, ma in qualche modo riuscendo, sapendo ovviamente la prossimità che per me questa materia aveva, riuscendo comunque a innestare loro stessi e il loro modo di essere sulla mia storia. Sì, chiedo ancora scusa per prima, ma avendo capito la risposta non stavo più pensando che giustamente c'era bisogno della traduzione. Allora, io faremo ancora una domanda conclusiva, visto che purtroppo il tempo stringe e dobbiamo proseguire con le conferenze, però ci tenevo a chiedere quest'ultima cosa a Joachim, come vi siete rapportati, a parte la questione degli elementi autobiografici, ad un tema così delicato come quello della malattia, e soprattutto come lo hanno fatto gli attori? Ultima domanda nella domanda, gli attori tengono il loro nome vero anche per i loro personaggi, perché questa scelta? Alla questione, come l'ha fatto? Io sono in psicanalisi depuis 25 anni, tre volte per settimana, e fa finalmente un po' di anni, potremmo 6 o 7 anni, che io arrivo con l'emotione a sentire e me souvenir di ciò che c'è stato passato, di ciò che aveva vissuto con il mio fratello. Ma se non avessero fatto questo lavoro prima, non avessero potuto fare il film, perché non avessero potuto e non avessero potuto, non avessero potuto, per ciò che gli attori proposti. Io avessero potuto, io avessero potuto la mamma, io avessero potuto il mio fratello, allora che in fatto, per fare successi questo film, e per accogliare questo film, e il lavoro dei attori, ciò che sia in realtà, in fatto, in un'immagine, per i parenti che ho avuto, ma che ho avuto, e c'è molto 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 interessante, perché il film, oggi, mi ha permesso di avere, per esempio, una conversazione con il mio figlio, magnifica, autour della malattia. E l'altra question, c'era... Pourquoi hanno guardato il loro nome? E io credo, ma non avessero potuto, Non posso pensare durante il filmo, io lo capisco come se ora oggi. Se Damien e Lela hanno acceptato, hanno presso proposto di guardare il nostro prieno, credo che c'era una unica per loro di dire, di me mostrari che non ero solo, con questa intimità. e poi c'était simplement, il faudrait leur poser la question aussi, pourquoi ils ont accepté de mais pour moi c'était une grande preuve de confiance de leur part c'était de dire, allez, on est avec toi nous et il ne s'agit pas que de toi, il y a aussi nous et ça là on en reparle quand on leur pose la question aujourd'hui j'ai pas l'impression que ça a été facile pour eux, le seul ce que j'ai trouvé très drôle et très important c'est que j'ai demandé à Gabriel l'enfant, est-ce que tu veux t'appeler Gabriel dans le film, je trouve que la question était je regrette même d'avoir posé la question parce que je trouve que je pense que j'espère que j'aurais réfléchi que je me suis dit non c'est pas possible et Gabriel m'a tout de suite dit, non non, moi je veux m'appeler Amine et je trouve ça très très bien per quanto riguarda la malattia il mio modo di affrontare quello che è stata la malattia di mio padre è stata la scelta di andare di essere in cura da uno psicoanalista ormai da 25 anni tre volte alla settimana se io non avessi intrapreso questo percorso con me stesso non sarei arrivato al punto che invece si è verificato 6-7 anni fa che è stato quello di ricordare e di accettare quello che io e mio fratello abbiamo vissuto quando eravamo bambini e naturalmente non avrei mai potuto realizzare questo film né realizzarlo accettando di condividere questa mia storia questa mia vicenda privata con degli attori e commuovermi per la loro capacità di innestarsi sul sul mio vissuto e devo dire che mi ha è un film la realizzazione di questo film mi ha profondamente commosso e ha anche profondamente commosso i miei genitori permettendomi di avere una conversazione straordinaria con mio padre rispetto alla sua malattia per quanto riguarda la scelta appunto di Damien e di Leila di tenere di conservare i loro nomi forse addirittura la proposta è arrivata da loro comunque hanno di buon grado accettato questa scelta quasi a dirmi non sei solo questa tua intimità la condividiamo anche noi e nel chiederlo loro hanno immediatamente accettato mostrandomi davvero tantissima fiducia in questo progetto ed è stato davvero il loro modo di dire non è una cosa solo tua ci siamo anche noi senz'altro non è stato facile per loro e mi pento ancora oggi di aver chiesto invece a Gabriele se voleva fare la stessa cosa e lui immediatamente ha detto no 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 io voglio chiamarmi Amin voglio chiamarmi con un nome di fittizio grazie Joachim e ringraziamo davvero Joachim Lafos per essere stato con noi per questa bellissima conversazione e soprattutto per questo bellissimo film che ci ha veramente colpito ed emozionato questa sera questa sera c'è la proiezione ufficiale per chi non l'ha ancora visto questa sera alle 19.30 a Lux visto che qualcuno appunto qua deve ancora vederlo ve lo consigliamo vivamente e davvero grazie per questo bellissimo film speriamo che esca in Italia lo aspettiamo ci siamo grazie per la partecipazione grazie per essere in sala conferenze stampa per quest'ultima conferenza di oggi parliamo di un film presentato ovviamente la 39esima edizione fuori concorso del Torino Film Festival tracce di teatro sezione come sempre estremamente stimolante estremamente affascinante io do il benvenuto al maestro Gabriele Lavia che porta il film L'uomo dal fiore in bocca qui a Torino grazie per essere con noi la produttrice Emanuela Cacciamani grazie e il direttore del montaggio Diego Capitani allora io comincerei ovviamente dal dall'adattamento teatrale del 2016 terzo per Gabriele Lavia per Pierandello che giustamente seguono questo percorso e arriva un'opera importante come L'uomo dal fiore in bocca che però nel 2021 grazie al Torino Film Festival assumono nuova forma e arriva su grande schermo quindi io le vorrei chiedere per iniziare questa nostra discussione come si passa visto che poi il percorso è la forma cinematografica scelta molto affascinante come si passa quindi da una rappresentazione teatrale come quella che aveva già fatto fino invece a questa nuova forma che ha voluto regalare all'opera di Pierandello quando la mia amata produttrice Manuela Cacciamani mi venne a dire Gabriele vorrei fare un film tratto dall'uomo dal fiore in bocca io le dissi ma perché vuoi fare un film dall'uomo dal fiore in bocca facciamo un altro film l'uomo dal fiore in bocca non si presta a fare un film è un'opera di teatro è un'opera tutta parlata e quindi è un'opera fatta di logos di logoi l'immagine è un'altra cosa ma lei che è una persona meravigliosa ma di coccio come dicono a Roma si è intignata voleva assolutamente fare l'uomo dal fiore in bocca facciamo l'uomo dal fiore in bocca a questo punto come siamo passati dalla versione diciamo di parole alla versione di immagini niente le parole non si potevano eludere perché l'uomo dal fiore in bocca è un insieme di parole nasce da una novella che Pirandello scrive intitolata Caffè notturno quando lo trasforma in un atto unico per il suo amico Ruggero Ruggeri che voleva un grande attore penso che lo conoscerete tutti anche se siete molto giovani voleva un pezzo una volta gli attori di teatro facevano quella cosa che si chiamava la beneficiata dopo lo spettacolo facevano un pezzo un monologo delle poesie e Pirandello scrive l'uomo dal fiore in bocca quando decisi di portarlo a teatro che cosa feci? presi questo uomo dal fiore in bocca che è un testo che dura 5-6 minuti e lo interpolai con tanti pezzi di novelle di Pirandello e quindi attraverso l'uomo dal fiore in bocca che cos'è l'uomo dal fiore in bocca? è un uomo che porta in se stesso la morte è Pirandello ma il segno della malattia non è a livello metaforico e a livello simbolico ancora di più non è il fatto che questo è un uomo malato che deve morire nell'intreccio nella storia nella novella nel racconto ma a livello profondo è l'uomo che comunque contiene in sé la malattia della della vita che conduce tragicamente per tutti prima o poi alla morte e diciamo interpolandola con altre novelle è venuta fuori questa cosa che prima è stato uno spettacolo che ho fatto a teatro che ebbe molto successo e che Manuela volle portare sullo schermo la poetica di Pirandello in fondo che cosa racconta Pirandello se stesso e basta lui che cosa racconta dell'uomo lui racconta la dimensione ombra Pirandello si racconta sempre c'è una novella di Pirandello intitolata certi obblighi che cosa racconta questa novella racconta che c'è un lampionaio che accende la luce dei lampioni e lui dice no no io non faccio la luce io faccio l'ombra che cosa ci dice Pirandello io non racconto l'uomo così come lo vedo ma lo racconto nella sua dimensione ombra quella dimensione ombra è possibile solo nel momento in cui poeticamente io mi assumo il ruolo di narratore devo raccontare lei che mi sta facendo un filmino una fotografia con questi attrezzi questi telefonini in questo momento lei sta facendo la fotografia a me ma io la vedo in un altro modo e Pirandello racconta la sua visione d'ombra dei personaggi racconta l'ombra vi voglio dire ancora una cosa c'è un'altra novella meravigliosa intitolata il professor Fileno chi è il professor Fileno? è un signore che ha inventato una filosofia nuova ma qual è la filosofia nuova? Fileno è sempre Pirandello è quella del cannocchiale rovesciato vede dice guardi maestro rivolgendosi a Pirandello vede guardi il mondo da qui e vede gli uomini non grandi grandi in primo piano ma piccoli 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 come delle formiche e lui è in qualche modo l'inventore della filosofia del lontano che cosa ci dice Pirandello io guardo i miei personaggi da lontano e metto questa lontananza come si direbbe al cinema in ppp in primissimo piano ma sempre nella lontananza è un grande autore è un grande poeta noi possiamo solo rovinarlo allora questo è diciamo il racconto del maestro Gabriele Lavia di come l'uomo da fiore in bocca si è passato dal teatro dal teatro al cinema a questo punto lo chiedo a Manuela Manuela Cacciamani produttrice del film che ha collaborato e ha scelto appunto quest'opera per fare il suo film tu hai proprio chiesto lui facciamo un film dell'uomo da fiore in bocca come è andato questo deve essere la tua parte del racconto prego io ho implorato Gabriele Lavia di fare questo film non lo voleva fare ha detto che ero testarda che sbagliavo che ne dovevamo fare un altro ha detto che non avremmo mai trovato nessuno che ci dava una mano e invece non è vero perché quando si parla di cultura e si parla di talento le trovi le possibilità e l'ho trovata in re cinema che ha chiaramente sposato essendo un ottimo servizio pubblico un prodotto di grande cultura l'ho trovato nella Puglia Film Commission però soprattutto devo dire la verità quello che ho trovato è stata la grande fortuna di incontrare una persona che mi ha regalato tanto cioè io mi occupo di innovazione di tecnologia da bambina da sempre però ho capito che non posso assolutamente usarla senza metterla insieme a quella che è la tradizione la cultura e il talento e questo film per me è la perfetta sintesi tra talento tradizione e tecnologia abbiamo chiesto a questo signore di lavorare sotto pandemia dentro un capannone faceva 50 gradi completamente ricoperto di green screen dove doveva immaginarsi che intorno a lui c'erano delle cose e l'ha fatto con una puntualità impressionante non abbiamo perso un minuto non ha come dire disatteso nessuna aspettativa da parte di chi tecnicamente aveva bisogno di una sua collaborazione da regista e da interprete ha una grandissima capacità di interagire con le persone è un'umanità nel rispettare il lavoro altrui che lo dico perché tanto sono famosa per dire quello che penso io non l'avevo mai incontrato prima un autore quindi in realtà regalo lo ha fatto lui a me e voi per averlo accolto in questo festival perché comunque è una città che amo il maestro Lavia e che io amo e comunque un'altra grande vittoria per noi che abbiamo ottenuto e per noi è veramente di grande prestigio che Raplay lo lancerà durante le feste di Natale e io penso che sia il posto giusto per poterselo godere perché tutti gli amanti del teatro di Pirandello e di Gabriele Lavia possono usufruire anche lì del servizio pubblico per vedere questo film passo la parola se non ti dispiace al nostro montatore che chiaramente è un montatore di cinema ma che è un montatore come dire abile a lavorare con le nuove tecnologie che quindi ha dovuto gestire un film interamente girato su green screen e che mi piacerebbe che raccontasse questa sua esperienza da persona come dire eclettica come lo potete vedere dal taglio dei capelli e questa convivenza in una sala montaggio col maestro Lavia per settimane allora grazie allora affrontare una seduta di montaggio con il maestro Lavia è affrontare in realtà una seduta di cultura filosofia storia è bellissimo nel senso non è correlato soltanto al montaggio insieme si parlava veramente di tutto e spiegava tutto tanto che ci si sentiva molto a disagio proprio per la mancanza di cultura che sentivi mentre lui raccontava e parlava e al di là di questo il film è stato decisamente impegnativo perché aveva molte una struttura molto complessa sul lato appunto integrazione VFX quindi delle tempistiche dilatate anche da dover in qualche modo percepire prima della realizzazione degli effetti insieme come diceva Manuela un film pieno di gris screen abbiamo realizzato questa stazione degli anni 30 siciliana e questo treno che ha un significato molto importante all'interno del film quindi abbiamo dovuto immaginare tempistiche via dicendo durante tutta la fase di editing sono molto molto felice di aver lavorato a questo film e che Manuela abbia osato a farlo e Gabriele ad interpretarlo e a fare la regia perché noi eravamo sempre circondati da degli schermi tutti verdi e quando si girava no no poi qui ci sarà sì poi qui ci sarà poi qui vedremo poi qui faremo poi qui no meglio di qua perché poi va bene e quindi la parte più importante cioè quella che del film era quella che non si poteva mai vedere ma che si che però loro immaginavano come dice Amleto nell'occhio della mente ora però la cosa bella che quando a un certo momento vedevo non lui ma un un ragazzo che ha seguito tutte le le riprese e che diceva no scusa Gabriele scusami forse sarebbe meglio la macchina lievemente più con una timidezza sì poi questo signore era quello che faceva i bulloni sul treno che non c'era cosa stai facendo sto vedi questo bullone vorrei farlo meglio ma il treno arriva e sì però con una precisione con un amore verso il bullone alla fine che era veramente ammirevole e ho imparato delle cose ho imparato tantissime cose perché sapevo che c'era ma poi quando vedevo dei film e vedevo tutte le cose fatte virtuali dicevo beh però il nostro è meglio perché poi vedevo tutti i treni nei film e vedevo che erano treni virtuali e poi dicevo ma il nostro è meglio è vero che il nostro c'è solo e poi in campo lungo però la cosa più difficile secondo me la cosa più bella è il treno che non c'è e che c'è più vero di un treno vero sono bravissimi però anche il bullone non è male il bullone il bellissimo bullone no faceva così ma cosa stai facendo ma vedi questo bullone ma il treno fa l'amore che cos'è l'amore è una cosa che non si può definire però l'amore è anche curare il bullone che nessuno vedrà mai allora domande ecco prego Cristina Cristiana sì Cristiana chiedo scusa no figurati Cristiana Paternò Cinecittà News dunque questo film è inserito qui al Torino Film Festival in una sezione tutta dedicata al teatro una sezione dove stiamo vedendo delle cose veramente molto belle devo dire forse tra le migliori di questo festival e credo che questo momento storico dopo la pandemia quindi con quanto ha sofferto lo spettacolo dal vivo e anche il cinema chiaramente per le chiusure sia davvero importante che ci sia un dialogo proprio tra cinema e teatro per riportare gli spettatori nelle sale quindi volevo chiedere al maestro Lavia un commento su questo aspetto quindi anche sull'aspetto diciamo didattico tra virgolette o comunque di richiamo per il pubblico a godere di queste grandissime opere guardi non lo so perché non ho una preparazione così specifica quindi la mia risposta è una risposta a intuito a punto di vista io penso che questo in maniera molto semplice non esiste una storia per il cinema o una storia per il teatro esistono delle storie poi dipende dal modo di raccontare e il modo in fondo che cos'è il cinema è una specie di teatro però che viene visto da una macchina da presa da un punto di vista e poi da un altro punto di vista da tantissimi punti di vista che vengono messi uno vicino all'altro il teatro che cos'è è un solo punto di vista che cosa cambia rispetto al cinema il logos che viene tradotto male la parola ma che in greco vuol dire raccolta la parola raccoglie tutto io dico mamma e nella parola mamma raccolgo tutte le mamme dall'inizio dell'umanità fino a quando l'umanità finirà un giorno tutto qui e in un qualche modo questa parola che ha dominato tutta la vita dell'uomo è diventata così importante che noi parliamo di linguaggio cinematografico di grammatica cinematografica in qualche modo stiamo dicendo di logos cinematografico tutto quello che noi facciamo anche una torta di mele te l'ha fatta mamma questa torta raccogliamo dentro quello che noi facciamo lo facciamo un logos del nostro amore del nostro modo di essere nel mondo alla fine è questo perché è nata l'arte perché in certo momento un essere umano ha preso la sua mano e ha fatto così contro la parete di una di una caverna e poi ha imitato in maniera straordinaria la figura di un alce piuttosto che un cervo piuttosto che un bovino di un orso quelli meravigliosi disegni in arrivà che solo Picasso riusciva a imitare è questo poi non è che capisca molto vado come viene viene Peter Brook diceva agli attori che gli chiedevano maestro come la devo dire ma come la devo dire perché io sento ma come la devo dire e lui rispondeva ma dilla alla come viene viene in genere viene meglio allora l'ha citato lei già prima raccontando in parte la storia dell'uomo dal fiore in bocca maestro però è un come dire ci si arriva è un percorso quello che compie un artista un uomo di teatro per arrivare all'uomo dal fiore in bocca lei l'ha fatto addirittura due volte nel senso che ha fatto una versione teatrale e una versione cinematografica bisogna avere delle spalle larghe da un certo punto di vista per riuscire a portare appunto due volte in maniera differente utilizzando linguaggi differenti l'opera di Pirandello era proprio in maniera differente completamente differente perché era proprio un'altra situazione intanto la la scena è collocata diciamo così in una sala di aspetto in una sala di aspetto smisurata in una fuori misura evidentemente non è realistica ci troviamo in un luogo irrealistico un luogo dello spirito un luogo dell'immaginazione ma potremmo dire un luogo della speranza un luogo della gioia un luogo della paura ci troviamo in un luogo della paura perché il tempo non c'è l'orologio non ha più lancette l'orario del treno che il pacifico avventore consulta è tutto strappato ma lui va a guardare l'ora ci troviamo in un mondo che non c'è evidentemente è un luogo dell'anima o meglio un luogo del sentimento un luogo della nostra paura anche in questo treno arriva solo un treno e poi si sente che deve arrivare un treno ma che nessuno prende non sapremo mai chi viaggia in questo treno chi c'è chi non c'è loro non lo prendono e parlano un po' di tutto perché ho preso dalle novelle tante novelle di Pirandello ho preso l'idea è molto bella c'è una battuta dice la vuole sapere di chi è la colpa la colpa è di uno solo e di questo benedetto si fa per dire femminismo la rovina dell'umanità è il femminismo è bellissima perché è una novella di Pirandello dove ci sono due uomini i quali in famiglia hanno tutte figlie femmine la moglie qualcuno ha anche l'amante ed è travolto dall'universo femminile e quindi riesce a capire che c'è una sola rovina per l'essere umano di sesso maschile è le donne e in maniera si inventano una filosofia della vita vagamente sicula senza troppa cultura alla buona questa novella l'ho presa ne ho prese altre un pochino più filosofiche ce l'ho messe dentro a un certo momento cominciano a parlare di Schopenhauer ma insomma Pirandello è un genio la sua produzione narrativa è talmente vasta che basta prendere così a caso tra tutte le novelle apri spesso lo faccio la sera faccio così a caso apro leggo non sbaglio mai e poi rimetto perché sono fonti inesauribili di sceneggiatura le esposti le rifai le metti oggi cambi qualcosa ci inseppi un'altra novella ci sono mille spunti per il cinema ammesso che il cinema possa avere un futuro questo non lo so perché il cinema nasce come innovazione tecnica di 24 fotogrammi uno vicino all'altro la pellicola non c'è più la macchina da presa è completamente diversa e quindi io non ho la preparazione per dirlo ma sospetto che da un punto di vista filosofico quella strana cosa che noi chiamiamo il cinema sia una cosa che sopravviverà solo nei festival io spesso vado al cinema mi faccio fotografare da mia moglie perché sono tragicamente solo in sala però forse sbaglio l'orario io vado anche a ore non è che devo pensare io vado quando il mondo si sveglia no io vado all'ultima proiezione quindi magari a quella precedente non si sa dove mettere la gente però bisogna obiettivamente dire nel 1959 o 60 non ricordo la Paramount fece un film il più brutto film della storia del cinema The Robe tradotto la tunica super cinema scope qui a Torino c'era il cinema fiamma che aveva 1500 posti ed era stato costruito per proiettare Oklahoma su tre schermi questa era una nuova tecnica del super cinema scope The Robe la tunica e costruirono un altro cinema che si chiamava Massawa aveva 2100 posti e non trovavi il biglietto per andare a vedere il più brutto film della storia del cinema che è passato alla storia come il più brutto film della storia del cinema non si trovava il biglietto e noi qui quando a Roma si dice si faceva sega a scuola non si andava a scuola andavamo al cinema Torino che credo non ci sia più o al cinema Asti che stava in fondo a Via Po o c'era un altro cinema piazza al cinema statuto ecco me lo ricordo ancora erano i tre cinema dove si vedevano tutti i ragazzi che non andavano a scuola che facevano a Roma si dice sega a scuola qui non mi ricordo come si dicesse ebbene se un ragazzo fa sega a scuola va al cinema non credo il cinema purtroppo appartiene alla nostra epoca adesso è un'altra cosa ma non è quella cosa lì dove tu vai fai sega a scuola e incontri la ragazza o vai al cinema per pomiciare io ho visto tantissimi film la mia cultura cinematografica nasce innanzitutto e per lo più per andare a pomiciare non so non so se tu hai questa esperienza mia figlia sicuramente no al cinema per pomiciare no vado a casa si fa prima allora Manuela voleva aggiungere qualcosa rispetto al discorso fatto prima prego Manuela cacciamani produttrice del film volevo aggiungere che è vero quello che dice il maestro ma è anche vero che i ragazzi che invece sono molto curiosi e che hanno bisogno costantemente di stimoli potrebbero aver bisogno invece proprio dell'arte del cinema per continuare a indagare certe passioni per esempio quella di Pirandello cioè Pirandello piace molto ai ragazzi cioè io ho conosciuto tanti ragazzi di terza media che per la tesina hanno portato a Pirandello forse lancio un appello alle istituzioni forse ci dovremmo anche impegnare tutti un po' di più e l'uomo dal fiero in bocca potrebbe essere un esempio per cercare comunque di mettere insieme quello che è la necessità di andare a scuola e di usufruire di certi contenuti attraverso i media che sono quelli che piacciono di più ai ragazzi quindi offrendo forse progetti di questo tipo potremmo in qualche maniera far rinascere un'occasione un interesse quindi io guardo con ottimismo questo discorso dicendo che difficile dire che la fotografia fatta dal maestro Lavia attualmente è questa cioè i numeri dimostrano questo però ancora è una partita aperta e credo che siano bisogna prendere come dire gli spunti giusti per continuare a investire in un'arte meravigliosa perché il cinema è un'arte non c'è dubbio che il cinema sia un'arte non c'è alcun dubbio quindi con grande ottimismo noi adesso ci auguriamo che faremo un altro film insieme è che un cinema è un'arte legato alla tecnica e ogni tecne viene superata da un'altra tecne l'arco è meraviglioso però non vado perché i sudisti hanno perso contro i nordisti nella famosa guerra di secessione perché i nordisti erano più belli no perché i sudisti non avevano il Winchester e quindi sparavano un colpo alla volta invece quegli altri facevano pum pum cinque colpi per volta è tragicamente tecnico io ho avuto nell'arco di questi due anni di collaborazione con il maestro Lavia un solo momento dove non ci siamo come dire in qualche maniera non eravamo d'accordo un solo momento in tre anni quasi purtroppo il tempo no forse di meno due due anni e si è risolto in questo modo parlavamo del film e chiaramente a un certo punto io ho provato erroneamente a vederci dentro delle cose che non fossero puramente pirandelliane ma che fossero un po' più vicine al mio modo di utilizzare la tecnologia e quindi ho provato un tavolo dove lui mi aveva offerto un caffè in un bar meraviglioso a Firenze a dire una cosa ho detto maestro ma se pensassimo di metterci non so a un certo punto la danza lui mi guarda e dice cara Manuela credo che adesso ho da fare e se ne va ma forse avevo da fare la danza ma io però l'unico però ce l'ho messa l'unico perché l'ho ascoltata e infatti io e il pacifico avventore a un certo punto balliamo e c'è l'inquadratura che mi è costata di più perché era dall'alto e non bisognava andare sopra sopra con questa ispirazione con Michele De Maria mi sono messo a ballare ti ho dato retto quindi vedi che alla fine l'ha dato retto a Manuela Cacciamani in conclusione ricordiamo l'appuntamento dove su replay per il film sì allora a parte oggi c'è la proiezione il film verrà lanciato su replay e la data prevista è il 30 dicembre 30 dicembre perfetto allora io ringrazio la produttrice Manuela Cacciamani il direttore del montaggio Digo Capitani il film ovviamente L'uomo dal fiore in bocca tracce di teatro un grazie sentito al maestro Gabriele Lade grazie grazie